uscendo dal caffè riche jean de sevigny disse a leon saval se vuoi possiamo andare a piedi il tempo è troppo bello per prendere una carrozza e l'amico rispose non chiedo di meglio jean proseguì sono appena le undici arriveremo molto prima di mezzanotte prendiamocela con calma una folla agitata brulicava nel viale quella folla delle notti d'estate che smania beve mormora e scorre come un fiume piena di benessere e di allegria qua e là un caffè proiettava una grande luce su un mucchio di avventori seduti sul marciapiede davanti ai tavolini ricoperti di bottiglie e di bicchieri e che ostruivano il passaggio con la loro calca e sulla carreggiata carrozza dagli occhi rossi azzurri e verdi transitavano bruscamente nel vivo chiarore della vetrina illuminata mostrando per un secondo la sagoma magra e trotterellante del cavallo il profilo elevato del cocchiere il cupo abitacolo della vettura quelle della compagnia urbana formavano chiazze chiare e rapide con i loro pannelli gialli colpiti dalla luce i due amici camminavano con passo lento un sigaro in bocca ben vestiti un soprabito sul braccio un fiore all'occhiello e il cappello un po' di sbieco come lo si porta talvolta con non curanza quando si è ben cenato e l'aria è tiepida fin dai primi tempi del collegio erano legati da un affetto intimo, devoto, solido Jean de Servigny, piccolo, scattante, un po' calvo, un po' fragile, elegantissimo, coi baffi arricciati, gli occhi chiari, le labbra sottili era uno di quegli uomini notturni che sembrano nati e cresciuti nel boulevard instancabile benché avesse sempre un'aria estenuata vigoloso quantunque pallido, uno di quei parigini mingerlini nei quali la ginnastica, la scherma, le docce e i bagni turchi hanno infuso una forza nervosa e artificiale era noto per i suoi bagordi come per lo spirito, il patrimonio, le sue relazioni quella socievolezza, quella amabilità, quella galanteria mondana tipiche di certi uomini vero parigino del resto, fatuo, scettico, volubile, influenzabile, energico e irresoluto capace di tutto e di niente, egoista per principio e generoso per impulsi dilapidava le proprie rendite con moderazione e si divertiva con igiene indifferente e appassionato, si riprendeva e si lasciava andare continuamente combattuto da istinti opposti e cedendo a tutti per obbedire in definitiva alla sua ragione di vitaiuolo avveduto la cui logica di banderuola consisteva nel seguire la corrente e nel trarre profitto dalle circostanze senza prendersi la briga di provocarle e suo amico leon saval anche lui ricco era uno di quei superbi colossi che fanno girare le donne per strada dava l'idea di un monumento fatto uomo di un prototipo della razza come quegli oggetti modello che si vedono nelle esposizioni troppo bello troppo grosso troppo largo troppo forte peccava per eccesso un po in tutto per eccesso di qualità aveva suscitato innumerevoli passioni mentre arrivavano davanti al teatro di vaudeville chiese hai avvertito questa signora che mi avresti presentato a lei servini si mise a ridere avvertire la marchesaopardi ti preoccupi forse di avvertire un cocchiere di omnibus che salirà sulla sua vettura nell'angolo della via sa va allora un po perplesso domandò ma al dunque con che genere di persona abbiamo a che fare con una pervenue una cacciatrice di uomini un'incantevole donnaccia uscita da chissà dove apparsa un giorno non si sa come nel mondo degli avventurieri in grado di farvi la sua figura quanto al resto che importa si dice che il suo vero nome il suo nome da ragazza dove che è rimasta ragazza sotto ogni punto di vista purché quello dell'innocenza sia Octavie Bardin onde o Bardi ottenuto conservando la prima lettera del nome e sopprimendo l'ultima del cognome il resto è una donna piacente di cui tu grazie al tuo fisico diventerai inevitabilmente l'amante non si introduce Ercole presso Messalina senza che la cosa produca un effetto aggiungo peraltro che se in questa dimora l'ingresso è libero come nei bazar non bisogna sentirsi assolutamente costretti a comprare ciò che si vende nella casa vi si trovano l'amore e le carte ma nessuno ti obbliga né al primo né alle seconde l'uscita è altrettanto libera si stabilì nel quartiere dell'Etoile quartiere sospetto tre anni fa e aprì i suoi salotti a quella schiuma di continenti che viene a Parigi per esercitare i suoi vari talenti temibili e criminali andai da lei come non ricordo più ci andai come ci andiamo tutti perché vi si gioca perché le donne sono facili e gli uomini disonesti mi piace questo mondo di filibustieri dalle onorificenze disparate tutti stranieri tutti nobili tutti titolati tutti conosciuti alle rispettive ambasciate ad eccezione delle spie tutti parlano d'onore a proposito di stivali per un non nulla citano i propri antenati raccontano la propria vita in qualunque circostanza spacconi bugiardi imbroglioni pericolosi come le loro carte ingannatori come i loro nomi coraggiosi perché è necessario alla maniera degli assassini che non possono depredare la gente se non la condizione di mettere a repentaglio la propria vita insomma l'aristocrazia della galera e adoro è interessante capirli a fondo interessante conoscerli divertente starli a sentire sono spesso intelligenti e mai banali come i funzionari francesi le loro donne sono sempre belle con un che di birbanteria straniera con il mistero della loro esistenza passata passata forse per metà in una casa di correzione in genere hanno occhi superbi e capelli incomparabili il vero fisico adatto una grazia che inebria una seduzione che spinge a commettere follie un fascino malsano irresistibile sono conquistatrici alla maniera dei giramondo di una volta rapaci autentiche femmine di uccelli da preda adoro anche loro la marchesa obardi è il prototipo di queste donnacce eleganti matura è sempre bella ammaliatrice e felina si avverte che è viziosa fino al midollo al suo fianco ci si diverte molto si gioca si balla si cena insomma si fa tutto quanto costituisce i piaceri della vita mondana da un saval domandò sei stato o sei ancora il suo amante servigni rispose non lo sono stato non lo sono e non lo sarò vado da lei soprattutto per sua figlia ha una figlia se ha una figlia una meraviglia caro mio oggi è la principale attrazione di quella spelonca alta magnifica matura quanto basta 18 anni bionda quanto sua madre e bruna sempre allegra sempre pronta alle feste sempre sorridente e pronta ad abbandonarsi nel ballo chi l'avrà o chi l'ha avuta non si sa siamo in dieci ad aspettare a sperare una figlia così tra le mani di una donna come la marchesa obardi è un patrimonio e giocano con prudenza le due marpione non ci si capisce niente forse attendono un'occasione migliore della mia ma io ti dico che l'afferrerò l'occasione se mi capita il resto questa fanciulla yvette mi sconcerta totalmente è un mistero se non è il mostro di arguzia di perversione più completo che abbia mai visto è certamente il fenomeno di innocenza più meraviglioso che si possa trovare vive in quell'ambiente infame con una facilità tranquilla e trionfante straordinariamente scellerata o ingenua meraviglioso rampollo di avventuriera cresciuto sull'etame di questo mondo come una magnifica pianta nutrita di immondizie oppure figlia di qualche uomo di alto lignaggio di qualche grande artista o di qualche gran signore di qualche principio di qualche re finito una sera nel letto di sua madre non si riesce a capire com'è né cosa pensa devi assolutamente vederla saval si mise a ridere e disse ne sei innamorato no sono in lizza il che non è la stessa cosa d'altronde ti presenterò i miei copretendenti più seri ma io ho ragguardevole probabilità di successo sono più avanti mi si concede qualche favore saval ripete ne sei innamorato no lei mi turba mi seduce e mi agita mi attira e mi spaventa diffido di lei come di una trappola e la desidero come sia voglia di un sorbetto quando si ha sete subisco il suo fascino e mi avvicino sempre a lei con l'apprensione che si proverebbe accanto a un uomo sospettato di essere un abile ladro al suo fianco provo un trasporto irragionevole verso il suo candore plausibile e una diffidenza ragionevolissima verso la sua astuzia non meno probabile mi sento a contatto un essere anormale fuori delle regole naturali quesito odioso non lo so saval disse per la terza volta ti dico che ne sei innamorato parli di lei con un'enfasi da poeta e un lirismo da trovatore su via guardati nell'intimo tasta il tuo cuore e ammettilo servigni fece qualche passo senza rispondere nulla poi riprese è possibile dopo tutto in ogni caso mi preoccupa molto sì forse ne sono innamorato ci penso troppo penso a lei addormentandomi anche al mio risveglio è piuttosto grave la sua immagine mi segue mi perseguita mi accompagna incessantemente sempre davanti a me attorno a me dentro di me e amora questa ossessione fisica il suo volto è entrato così profondamente nel mio sguardo che mi appartiene non appena chiudo gli occhi ho il batticuore ogni volta che la vedo non lo nego dunque l'amo ma curiosamente ne desidero con violenza e l'idea di farne mia moglie mi parebbe una follia una sciocchezza una mostruosità accanto a lei ho anche un po di paura la paura di un uccello sul quale plani uno sparviero e sono geloso di lei geloso di tutto ciò che ignoro di quel cuore indecifrabile e mi domando sempre è un'incantevole ragazzina o un'abominevole prostituta dice cose da far tremare un esercito ma anche i pappagalli talvolta è imprudente o impudica al punto da farmi credere al suo candore immacolato talvolta ingenua di un'ingenuità inverosimile al punto di farmi dubitare che sia mai stata casta mi provoca mi eccita come una cortigiana e al tempo stesso si difende come una vergine sembra amarmi e si burla di me in pubblico si fa notare come se fosse la mia amante e nell'intimità mi tratta come se fosse il suo fratello o il suo servo a volte immagino che abbia tanti amanti quanti ne ha sua madre a volte mi figuro che non sospetti ancora niente della vita ma proprio niente capisci del resto è un'abida lettrice di romanzi in attesa di meglio sono il suo fornitore di libri mi chiama il suo bibliotecario ogni settimana la librerì nouvelle le invia da parte mia tutto ciò che è stato pubblicato e credo che lei legga più o meno tutto tutto questo deve ingenerare una bella confusione nella sua testa questa poltiglia di letture forse ha qualche importanza nello spiegare il singolare comportamento di questa ragazza quando si contempla l'esistenza attraverso quindicimila romanzi probabilmente la si vede sotto una strana luce e ci si formano idee al quanto barocche sulle cose della vita quanto a me aspetto quel che certo è che non ho mai avuto per nessun'altra donna la cotta che ho per lei altrettanto certo che non la sposerò dunque se ha già avuto amanti ne accrescerò il conto se non ne ha avuti prenderò il numero uno come nel tram il caso è semplice sicuramente lei non si sposerà mai chi sposerebbe la figlia della marchesa obardy di octavì barden nessuno per mille ragioni dove potrebbe scovare un marito nel bel mondo mai la casa della madre è una casa d'appuntamento dove la figlia serve ad attirare la clientela non ci si sposa in simili condizioni nella borghesia ancor meno ed altronde la marchesa non è donna da fare operazioni sbagliate concederebbe definitivamente ivetta soltanto a un uomo di grande posizione che non troverà mai nel popolino allora meno che mai nessuna via d'uscita dunque questa signorina non appartiene alla buona società non appartiene alla borghesia non appartiene al popolo non può unirsi a nessuna di queste classi sociali appartiene per via di madre per nascita per educazione per ereditarietà per le maniere per le abitudini alla prostituzione dorata non può sfuggirvi a meno di farsi suora cosa non probabile visti i suoi modi e i suoi gesti e così ha una sola professione possibile l'amore ci arriverà a meno che non la eserciti già non potrebbe sottrarsi al proprio destino dalla fanciulla che è diventerà puttana molto semplicemente e vorrei tanto essere il perno di questa trasformazione aspetto i pretendenti sono numerosi troverai un francese il signor di belvigna un russo chiamato principe cravaloff e un italiano il cavaliar val reali i quali hanno avanzato esplicitamente le loro candidature e manovrano di conseguenza attorno a lei inoltre si contano parecchi razziatori di minore importanza la marchesa sta in agguato ma credo che abbia messo gli occhi su di me mi sa ricchissimo e a meno ascendente sugli altri del resto il suo salotto è il più stupefacente che conosca in questo genere di esposizioni qui si incontrano anche uomini assai per bene dal momento che ci andiamo anche noi e non siamo i soli quanto alle donne ha reperito o meglio ha selezionato quanto di meglio si trova in fatto di predatrici di borse dove le ha scovate nessuno lo sa è un mondo al di fuori delle vere donnacce al di fuori della bohème al di fuori di tutto del resto lei ha avuto un'ispirazione geniale quella di scegliere specialmente avventuriere in possesso di figli principalmente di figlie di modo che un imbecille potrebbe credere di avere a che fare con una donna onesta avevano raggiunto il viale degli champs elisee una leggera brezza attraversava dolcemente le foglie scivolava a tratti sui visi come i dolci soffie di un ventaglio gigantesco agitato da qualche parte su nel cielo ombre mute erravano sotto gli alberi altre sulle panche formavano macchie scure e queste ombre parlavano sotto voce come se dovessero confidarsi segreti importanti o vergognosi servigny raccontò non può immaginarti la collezione di titoli di fantasia che si incontra in quel ritrovo a proposito devi sapere che ti presenterò sotto il nome di conte saval saval e basta sarebbe molto mal visto molto mal visto l'amico esclamò ah no diamine non voglio che mi si sospetti neppure per una sera neppure tra costoro il ridicolo di volermi affibiare un titolo ah questo no servigny si mise a ridere che stupido io da dentro sono stato battezzato duca di servigny non so come perché fatto sta che sono e resto il signor duca di servigny senza lamentarmi e senza protestare non mi dà alcun fastidio in caso contrario sarei orribilmente disprezzato ma saval non si lasciava convincere ma tu sei nobile la cosa può andare io no preferisco restare l'unico plebeo del salotto tanto peggio tanto meglio sarà il mio segno distintivo e la mia superiorità servigny insisteva ti assicuro che non è possibile non è possibile capito sembrerebbe quasi mostruoso faresti l'effetto di uno straccivendolo in una riunione di imperatori lasciami fare ti presenterò come vicerei dell'alto mississippi e nessuno se ne stupirà quando si assume un'aria di grandezza non si esagerà mai no però ripeto non voglio e sia a dire il vero sono proprio uno sciocco a volerti convincere ti diffido entrare là dentro senza essere decorato da un titolo come si danno alle signore mazzetti di viole sulla soglia di certi negozi svoltarono a destra in rulli berri salirono al primo piano su un bel palazzo moderno e lasciarono nelle mani di quattro domestici in pantaloni corti i loro soprabiti e i loro bastoni un effluvio caldo di festa un effluvio di fiori di profumi di donne appesantiva l'aria un gran mormorio confuso e continuo proveniva dalle stanze attigue che si avvertivano piene di gente una sorta di maestro di cerimonia alto impettito panciuto serio con il volto incorniciato da bianchi favoriti si avvicinò al nuovo venuto chiedendo con un secco e fiero saluto chi devo annunciare servigny rispose il signor saval allora l'uomo con voce sonora aprendo la porta gridò nella folla degli invitati il signor duca di servigny il barone saval il primo salotto era gremito di donne ciò che si intravedeva tutta prima era un'esposizione di seni nudi sopra un flusso di stoffe smaglianti la padrona di casa che chiacchierava in piedi con tre amiche si girò e venne il loro incontro con passo maestoso grazie nel portamento e un bel sorriso sulle labbra la sua fronte stretta e bassa era coperta da una massa di capelli di un nero lucente fitti come un vello e che si mangiavano anche una parte delle tempie era alta un po troppo forte di fianchi un po troppo grassa un po troppo matura ma bellissima di una bellezza massiccia calda possente sotto quel casco di capelli che faceva sognare che faceva sorridere che la rendeva misteriosamente desiderabile si schiudevano occhi enormi anch'essi neri il naso era piuttosto sottile la bocca ampia infinitamente seducente fatta per parlare per conquistare del resto il suo fascino più intenso risiedeva nella voce scaturiva da quella bocca come acqua da una sorgente così naturale lezzera ventimbrata e chiara che si provava un godimento fisico nel sentirla per l'orecchio era una gioia ascoltare quelle parole sinuose emanare con la grazia di un ruscello che scorre ed era una gioia per lo sguardo vedersi aprire per dar loro adito quelle belle labbra un po troppo rosse tese la mano a servigny che la baciò e lasciando cadere il ventaglio appeso una catenella d'oro inciso offrì l'altra a saval dicendo siate il benvenuto barone tutti gli amici del duca qui sono a casa loro poi fissò i suoi occhi brillanti sul colosso che le era stato presentato aveva sul labbro superiore una piccola peluria nera un'ombra di baffi che diventava più scura quando parlava aveva un buon profumo un odore forte inebriante doveva essere un profumo d'america o delle indie altre persone entravano marchesi conti principi disse a servigny con grazia materna troverete mia figlia nell'altro salotto divertitevi signori da casa vi appartiene e li lasciò per andare incontro ai nuovi venuti gettando su saval quel colpo d'occhio sorridente e fugace che hanno le donne per far intendere che sia loro piaciuti servigny afferrò il braccio dell'amico ora ti guiderò io disse il salotto in cui ci troviamo è il tempio della carne più o meno fresca oggetti d'occasione che valgono come nuovi carissimi da prendere in affitto a sinistra c'è il gioco è il tempio del denaro lo conosci là in fondo si balla è il tempio dell'innocenza il santuario il mercato delle fanciulle là si espongono sotto tutti i punti di vista e i prodotti di queste dame si acconsentirebbe perfino a unioni legittime è l'avvenire la speranza delle nostre notti ed è anche la cosa più curiosa di questo museo delle malattie morali queste ragazzine la cui anima è snodata come le membra di piccoli clown progenie di saltimbanchi andiamo a vederle salutava a destra a sinistra galante sempre con un complimento sulle labbra coprendo con uno sguardo intenso da intenditore ogni donna scollacciata che conosceva in fondo al secondo salotto un'orchestra suonava un waltzer si fermarono sulla porta per guardare una quindicina di coppie volteggiavano gli uomini seri le danzatrici con un sorriso stereotipato sulle labbra mettevano in mostra molta pelle come le loro madri e poiché il corsetto di qualcuna era sostenuto soltanto da un sottile nastro che cingeva l'attaccatura del braccio a tratti sembrava di scorgere una macchia scura sotto le ascelle improvvisamente dal fondo dell'appartamento una ragazza alta si lanciò attraversando tutto urtando i danzatori e sollevando con la mano sinistra la coda smisurata del proprio vestito correva a piccoli passi rapidi come corrono le donne in mezzo alla folla e gridava ah ecco pallina buongiorno pallina aveva nei lineamenti uno sboccio di vita un'illuminazione di felicità la sua carne bianca dorata una carne di rosa pareva immettesse raggi di luce e quell'ammasso di capelli attorcigliati sulla testa capelli cotti nel fuoco capelli fiammeggianti pesava sulla sua fronte e gravava su quel collo flessuoso ancorché esile sembrava fatta per muoversi come sua madre era fatta per parlare tanto i suoi gesti erano naturali nobili e semplici pareva si provasse una gioia morale e un beneficio fisico nel vederla camminare gesticolare chinare la testa alzare le braccia lei ripeteva ah pallina buongiorno pallina Servigny le strinse la mano energicamente come a un uomo e fece le presentazioni signorina Ivette il mio amico il barone Saval la ragazza salutò lo sconosciuto poi lo squadrò buongiorno signore siete così grande tutti i giorni Servigny rispose con quel tono beffardo che usava con lei per nascondere le proprie diffidenze e le proprie incertezze no signorina ha assunto le sue massime dimensioni per piacere a vostra madre che ama le masse e la fanciulla pronunciò con comica serietà benissimo allora ma quando verrete da me diminuite un po' per favore preferisco le taglie intermedie per esempio pallina rientra nelle mie proporzioni e tese all'ultimo venuto la sua mano aperta poi domandò ballate pallina so via un giro di waltzer senza rispondere con movimento rapido impetuoso Servigny le cinse la vita e scomparvero subito in un furioso mulinello andavano più veloce di tutti gli altri giravano giravano correvano piroettando follemente avvinti come una sola persona il corpo dritto le gambe così immobili come se una meccanica invisibile nascosta sotto i loro piedi li facesse volteggiare così sembravano instancabili gli altri danzatori a poco a poco si fermavano rimasero soli ballando un waltzer senza fine avevano l'aria di non sapere più dove fossero e cosa stessero facendo di essere arrivati ben lontano dal ballo nell'estasi e i musicisti dell'orchestra continuavano a suonare con lo sguardo fisso su quella coppia forse nata tutti la contemplavano e quando finalmente si fermò applaudirono lei adesso era un po' rossa con due occhi strani occhi ardenti e timidi meno audaci di prima occhi turbidi così azzurri e con una pupilla così nera da non sembrare affatto naturali servigni sembrava ubriaco dovette appoggiarsi a una porta per ritrovare l'equilibrio lei gli disse niente da fare povero pallina sono più solida di voi lui sorrideva di un riso nervoso e la divorava con lo sguardo con una concupiscenza quasi animalesca negli occhi e nella piega delle labbra lei restava davanti a lui lasciando in pieno sotto la vista del dovanotto il proprio seno scoperto sollevato dai respiri i vette riprese in certi momenti sembrate un gatto che debba saltare addosso a qualcuno su datemi il braccio e andiamo a recuperare il vostro amico senza dire una parola servigni gli offrì il braccio e insieme attraversarono il vasto salone Savat non era più solo la marquesa Aubardy l'aveva raggiunto gli parlava di cose mondane di cose banali con quella voce ambaliante che ubriacava e scrutandolo nel fondo dei suoi pensieri sembrava dirgli parole diverse da quelle pronunciate dalla sua bocca quando scorse Servigny il suo avviso assunse subito un'espressione sorridente e rivolgendosi a quest'ultimo sapete caro duca ho appena preso in affitto una villa a Bougival per trascorrervi un paio di mesi conto su una vostra visita portate anche il vostro amico sentite io mi trasferisco lunedì volete venire a pranzo per i prossimi due sabati sarete miei ospiti anche per il giorno successivo Servigny si girò bruscamente verso Yvette lei sorrideva tranquilla serena e con una sicurezza che non autorizzava alcuna esitazione disse ma certo che Pallina verrà a pranzo sabato non vale neppure la pena di chiederglielo ci divertiremo da matti in campagna Servigny credete di vedere nascere una promessa in quel sorriso e di cogliere un'intenzione nella sua voce allora la marchesa fissò nuovamente i suoi grandi occhi neri su Saval anche voi barone anche il sorriso della marchesa non lasciava dubbi Saval si inchinò ne sarò felicissimo signora Yvette mormorò con una malizia ingenua o perfida scandalizzeremo tutti laggiù non è vero Pallina e faremo crepare di rabbia il mio reggimento e con un'occhiata indicò alcuni uomini che li osservavano da lontano Servignyre rispose fin tanto che vorrete signorina parlando con lei non scandiva mai chiaramente la parola signorina a causa di un cameratismo familiare Saval domandò perché la signorina Yvette chiama sempre il mio amico Servigny Pallina la fanciulla assunse un'aria candida perché mi scivola sempre dalla mano signore credi di averlo in pugno ma non lo hai mai la marchesa disse con fare indifferente seguendo visibilmente un altro pensiero e senza togliere gli occhi di dosso a Saval che buffi questi ragazzi Yvette si offese non sono buffa sono franca Pallina mi piace però mi abbandona sempre è seccante Servigny fece un gran saluto non vi lascerò più signorina né di giorno né di notte Yvette aveva un gesto di terrore oh no ci mancherebbe di giorno mi fa anche piacere ma di notte mi dareste fastidio Servigny chiese con impertinenza e perché mai ne rispose con tranquilla audacia perché nell'intimità non dovete essere altrettanto a modo la marchesa senza sembrare troppo scossa esclamò ma dicono dell'enormità questa non è più innocenza e Servigny in tono beffardo aggiunse anch'io la penso così marchesa Yvette fissò gli occhi su di lui e con un tono altero ferito voi voi vi siete macchiato di una volgarità vi succede un po' troppo spesso negli ultimi tempi e girando si chiamò cavaliere venite a difendermi mi insultano un uomo magro bruno lento nei gesti si avvicinò chi è il colpevole disse con un sorriso forzato Yvette indicò Servigny con un cenno della testa è lui tuttavia lo amo più di tutti voi perché è meno noioso il cavaliere valreali si inchinò si fa quel che si può potremmo forse avere meno qualità ma non meno devozione si stava avvicinando un uomo panciuto alto di statura coi favoriti grigi e che parlava a voce alta signorina Yvette salvo vostro e esclamò oh il signor de Belvigne poi girandosi verso Saval presentò il mio pretendente ufficiale grande grosso ricco e stupido è così che li amo un vero tamburo maggiore da pensione ma voi siete ancora più grosse di lui come potrò battezzarvi bene vi chiamerò signor de Rod figlio per via di quel colosso che doveva certamente essere vostro padre ma voi due dovete certo avere qualcosa di interessante da dirvi sopra la testa degli altri buonasera e se ne andò verso l'orchestra rapidamente per pregare i musicisti di suonare una quadriglia la marchesa Obardy sembrava distratta disse a Servigny con voce lenta tanto per parlare non fate che stuzzicarla ne farete venire un pessimo carattere e un mucchio di brutti difetti Servigny replicò non avete dunque messo fine alla sua educazione la marchesa sembrò non capire e continuò a sorridere benevolmente ma a un tratto vede venire verso direi un signore austero e costellato di croci e gli corse incontro ah principe principe che felicità Servigny prese di nuovo sotto braccio Saval e prendendolo in disparte questo è l'ultimo serio pretendente il principe Kravlov non è superba e Saval rispose io le trovo superbe entrambe mi accontenterai senz'altro della madre Servigny lo salutò a tua disposizione mio caro i danzatori li urtavano mentre si preparavano per la quadriglia a gruppi di due e su due file faccia a faccia ora andiamo un po' a vedere i bari disse Servigny ed entrarono nella sala da gioco attorno ogni tavolo c'era un circolo di uomini in piedi che guardavano si parlava poco talvolta a lieve tintinio di una moneta d'oro gettata sul tappeto verde o raccolta bruscamente aggiungeva una nota metallica al mormorio dei giocatori come se la voce del denaro avesse detto la sua in mezzo a tante voci umane tutti quegli uomini erano decorati da ordini disparati da nastri bizzarri e avevano in comune un comportamento austero sia pure espresso da volti diversi si distinguevano soprattutto dalla barba l'americano rigido con il suo ferro di cavallo l'inglese altezzoso con il suo ventaglio di peli in bella vista sul petto lo spagnolo con il suo vello nero che gli arrivava fino agli occhi il romano con quegli enormi baffi di cui Vittorio Emanuele ha dotato l'Italia l'austriaco con i suoi favoriti e il suo mento rasato un generale russo le cui labbra sembravano armate con due lance di peli arrotolati e certi francesi dai baffi galanti rivelavano la fantasia di tutti i barbieri di questo mondo non giochi chiese Servigny no e tu? qui? mai se vuoi andar via torneremo in una giornata più tranquilla oggi c'è troppa gente non si riesce a combinare niente andiamo e sparirono sotto una tenda che conduceva all'ingresso quando furono in strada Servigny chiese ebbene che ne dici? in effetti è interessante ma preferisco il lato donne al lato uomini perbacco queste donne sono quanto c'è di meglio per noi nella razza non trovi che in loro si senta l'amore come si sentono i profumi da un parrucchiere? a dire il vero sono gli unici ritrovi dove il denaro speso procura un autentico divertimento e quanta esperienza caro mio che artiste? ti è mai capitato di mangiare i dolci di un fornaio? hanno un bell'aspetto ma non sanno di niente l'uomo che li ha impastati sa fare solo pane ebbene l'amore di una donna comune mi ricorda sempre quelle lecornie d'accatto mentre l'amore che si trova a fianco della marchesa Dobardy è una squisitezza no li sanno fare i dolci quelle pasticcere da loro si paga cinque soldi ciò che altrove ne costa due ecco tutto Servigny scrollò le spalle con il gesto tipico di chi ignora non lo so l'ultimo conosciuto era un pari d'Inghilterra andato via tre mesi fa oggi probabilmente vive sulla gente comune sul gioco e sui giocatori perché ne ha di capricci ma dimmi allora restiamo intesi che andremo a pranzo da lei sabato a Bouchival non è vero? in campagna si è più liberi e forse finirò per scoprire che cosa passa per la testa a Yvette Savard rispose quanto a me non chiedo di meglio quel giorno non ho niente da fare ridiscendendogli Champs-Élysées sotto il campo di fuoco delle stelle disturbarono una coppia stesa su una panchina e Servigny mormorò che sciocchezza e che cosa considerevole al tempo stesso com'è banale divertente sempre simile e sempre vario l'amore il pezzente che paga venti soldi questa puttana non le chiede forse proprio ciò che io stesso pagherei diecimila franchi a un'aubar di qualunque non più giovane e non meno stupida di questa operaia che follia non disse nulla per qualche minuto poi esclamò di nuovo fa lo stesso sarebbe una maledetta fortuna essere il primo amante di Yvette oh per questo darei darei non riuscì a trovare ciò che avrebbe dato e poiché erano arrivati all'angolo di Rue Royale Saval gli diede la buonanotte avevano apparecchiato sotto la veranda che dominava il fiume la villa primavera presa in asfitto dalla marchesa Obardy si trovava a mezza altezza sulla collina proprio sull'ansa della senna che svoltava davanti al muro del giardino scorrendo verso Marlì di fronte alla dimora l'isola di Coassi formava un orizzonte di grandi alberi una massa di verde si scorgeva a un lungo tratto del vasto fiume sino al caffè galleggiante della spiaggia fluviale nascosto sotto le fronde scendeva la sera una di quelle sere calme in riva all'acqua colorate e miti una di quelle sere tranquille che danno la sensazione della felicità non un alito d'aria scuoteva i rami non un brivido di vento passava sulla superficie liscia e chiara della senna eppure non faceva troppo caldo l'aria era tiepida si stava bene la benefica freschezza delle sponde della senna saliva verso il cielo sereno il sole si eclissava dietro gli alberi andava verso altre contrade si aspirava così pareva il benessere della terra già assopita si aspirava nella pace dello spazio la vita indifferente del mondo quando uscirono dal salotto per sedersi a tavola tutti furono estasiati una tenera allegria invadeva i cuori sentivano che sarebbero stati così bene a cena la fuori in quella campagna con quel grande fiume e quella fine del giorno per scenari respirando quell'aria limpida e sapida la marchesa aveva preso il braccio di Saval i vet e quello di Servigny erano soltanto loro quattro le due donne sembravano completamente diverse che a Parigi soprattutto i vet non parlava quasi più sembrava illanguidita seria Saval non riconoscendola più le chiese che cosa avete signorina vi trovo cambiata dalla scorsa settimana siete diventata una persona così posata lei rispose è la campagna che mi fa questo effetto non sono più la stessa mi sento strana del resto non sono mai uguale per due giorni di seguito oggi avrò l'aria di una folle e domani di un'elegia cambio come il tempo non so perché vedete sono capace di tutto secondo il momento ci sono giorni in cui ammazzerei qualcuno non degli animali non ucciderei mai degli animali ma delle persone sì e altri giorni in cui piango per un non nulla mi passano per la testa un mucchio di idee disparate ogni mattino svegliandomi potrei dire come sarò fino a sera forse sono i nostri sogni a darsi questa disposizione d'animo forse dipende anche dal libro che ho letto era vestita con un completo di flanella bianca che la avvolgeva delicatamente nella svolazzante mollezza della stoffa la camicetta larga a grandi pieghe indicava senza mostrarlo senza stringerlo il petto libero sodo e già maturo e il collo sottile scaturiva da una spuma di ampi merletti chinandosi con movimenti addolciti più chiaro del vestito un gioiello d'incarnato che portava il pesante fardello dei suoi capelli d'oro Servigny la contemplò a lungo disse siete adorabile questa sera signorina vorrei vedervi sempre così e lei con un po' di malizia rispose non fatemi la dichiarazione pallina oggi la prenderai sul serio e potrebbe costarvi cara la marchesa sembrava felice molto felice tutta in nero nobilmente trappeggiata in un vestito austero che profilava le sue linee piene e forti un po' di rosso nel corpetto una ghirlanda di galofani rossi che pendeva alla vita come una catena e risaliva per ricollegarsi ai fianchi una rosa rossa nei capelli scuri aveva in tutta la sua persona in quella toletta semplice dove quei fiori sembravano sanguinare nel suo sguardo che quella sera pesava sulla gente nella sua voce lenta nei suoi gesti rari qualcosa di ardente anche Saval pareva serio assorto di tanto in tanto si accarezzava con la mano un gesto familiare una barba scura che portava tagliata sul mento all'enrico terzo e sembrava pensare a cose profonde nessuno disse niente per qualche minuto poi visto che passava una trota Servigni dichiarò il silenzio talvolta ha del buono spesso si è più vicini agli altri quando si tacce che quando si parla non è vero Marchesa quest'ultima si girò lievemente verso di lui e rispose è vero è così dolce pensare insieme a cose piacevoli e alzò il suo sguardo caldo verso Saval rimasero per qualche secondo a contemplarsi gli occhi negli occhi un piccolo movimento quasi invisibile ebbe luogo sotto la tavola Servigni proseguì signorina Ivette mi indurrete a credere che siete innamorata se continuate a essere così seria or bene di chi potreste essere innamorata indaghiamo insieme se volete lascio da parte l'esercito degli spagimanti volgari e prendo in considerazione solo i principali del principe Kravalov a quel nome Ivette si destò povero pallina ma cosa andate a pensare il principe all'aria di un russo da museo del lecere vincitore di medaglie in qualche concorso di acconciatura bene e riminiamo il principe dunque avete precelto il visconte Pier de Belvigne questa volta la ragazza scoppiò a ridere mi ci vedete appesa al collo di marmellata d'uva secondo i giorni lo battezzava marmellata d'uva malvasia argentel poiché dava soprannome a tutti mormorandogli sul naso caro piccolo Pier oh mio divino Pier mio adorato Pier mio grazioso Pier da un po' di questa tua bella testona da cagnolino alla tua cara mogliettina che vuole baciarla Servigny dichiarò tolti di mezzo questi due resta il cavalier Valreali che la marchesa sembra prediligere Ivette ritrovò tutta la sua allegria lacrime agli occhi ma se fa la prefica alla Madeleine segue tutti i funerali di prima classe mi sento morta tutte le volte che mi guarda e via i primi tre allora avete avuto il colpo di fulmine per il barone Saval qui presente per il signor d'erodè figlio no è troppo forte mi sembrerebbe di amare l'arco di trionco dell'etuale allora signolina non c'è dubbio che siete innamorata di me poiché sono il solo dei vostri adoratori di cui non abbiamo ancora parlato mi ero riservato per ultimo per modestia e per prudenza non mi resta che ringraziarvi lei rispose con una grazia radiosa di voi pallina oh ma no certo vi amo ma non vi amo aspettate non voglio scolaggiarvi non vi amo ancora avete qualche possibilità forse perseverate pallina siete devoto premuroso sottomesso pieno di cura di attenzioni docile al mio più piccolo capriccio pronto a tutto pur di piacermi e vedremo più avanti ma signorina tutto ciò che esigete preferirai fornirvelo dopo anziché prima se per voi fa lo stesso ivette domandò con aria ingenua da servetta dopo che cosa pallina dopo che mi avete dimostrato che mi amate diamine ebbene fate come se vi amassi e credetelo se volete ma il fatto è che silenzio pallina ne ho abbastanza dell'argomento servigni fece il saluto militare e tacque il sole si era inabissato dietro l'isola ma tutto il cielo restava scintillante come un bracere e l'acqua calma del fiume sembrava essersi mutata in sangue i riflessi dell'orizzonte rendevano rosse le case gli oggetti le persone e la rosa scarlatta nei capelli della marchesa aveva l'aria di una goccia di porpora caduta dalle nuvole sulla sua testa mentre ivette guardava lontano sua madre posò come per disattenzione la mano nuda sulla mano di Saval ma appena la fanciulla ebbe un movimento la mano della marchesa volò via con un gesto rapido e andò a sistemare qualcosa tra le pieghe della camicia servigni che li osservava disse se volete signorina andremo a fare un giro nell'isola dopo cena ivette sembrò entusiasta dell'idea oh sì sarà incantevole andremo noi due soli vero pallina sì noi due soli signorina poi tutti tacquero di nuovo il silenzio dell'orizzonte la sonnolenta quiete della sera intorpidivano i cuori i corpi le voci vi sono ore tranquille ore raccolte in cui diviene quasi impossibile parlare i camerieri servivano senza far rumore l'incendio del firmamento si spegneva e la notte lenta spiegava le sue ombre sulla terra Saval domandò avete intenzione di restare a lungo in questo paese la marchesa rispose scandendo ogni parola sì fin tanto che vi sarò felice già che non ci si vedeva più portarono delle lampade che cettarono sulla tavola una strana luce pallida sotto la vasta oscurità dello spazio una pioggia di mosche piombò all'improvviso sulla tovaglia erano moschini che si bruciavano passando sui paralumi di vetro poi con le ali e le zampe arrostite disseminavano il tessuto i piatti le coppe di una sorta di polvere grigia e saltellante si ingoiavano col vino si mangiavano nelle salse si vedevano agitarsi sul pane viso e mani erano costantemente solleticati dall'innumerevole ressa volante di quei minuscoli insetti bisognava gettare continuamente le bevande coprire i piatti mangiare nascondendo i cibi con infinite precauzioni questo gioco divertiva Yvette già che Servigny si prendeva cura di riparare ciò che lei si portava in bocca di proteggere il suo bicchiere di stenderle sul capo come un tetto il suo tovagliolo spiegato ma la marchesa disgustata si innervosì e il pranzo ebbe una rapida conclusione Yvette che non aveva affatto dimenticato la proposta di Servigny gli disse e ora andiamo nell'isola sua madre si raccomandò in tono languido soprattutto non restateci a lungo del resto vi accompagneremo fino al traghettatore e si avviarono sempre a coppie la ragazza e l'amico davanti sul sentiero di Aleggio dietro di loro udivano la marchesa e Saval parlare piano sotto voce rapidamente tutto era buio di un buio fitto nero come l'inchiostro ma il cielo che formicolava di grani di fuoco sembrava disseminarli nel fiume poiché l'acqua cupa era sabbiata di astri le rane ora gracidavano emettendo lungo gli argini le loro note buffe e monotone e innumerevoli osignoli riempivano l'aria calma del loro canto leggero Rivetta ad un tratto disse toh ma non camminano più dietro di noi dove sono e chiamò mamma nessuna voce le rispose la fanciulla proseguì eppure non possono essere lontani li sentivo fino a pochi istanti fa Servigny mormorò saranno dovuti tornare forse vostra madre aveva freddo e la tracinò via davanti a loro brillava una luce era la locanda di martinè ospite pescatore a richiamo dei passeggeri un uomo uscì dalla casa dopodiché salirono tutti in una grossa imbarcazione ormeggiata tra le piante in riva al fiume il traghettatore si mise ai remi e la pesante barca avanzando ridestava le stelle addormentate sull'acqua le costringeva a danzare una danza tumultuosa che si placava poco a poco dietro di loro approdarono all'altra riva e scesero sotto i grandi alberi una freschezza di terra umida aleggiava sotto i rami alti e fronzuti che sembravano carichi di usignoli quanto di foglie un lontano pianoforte cominciò a suonare un waltzer popolare Servigny aveva preso il braccio di Ivette e pian piano insinuò la mano dietro la sua vita stringendola con una dolce pressione a chi pensate le chiese io a niente sono fedicissima allora non mi amate ma si pallina vi amo vi amo molto però lasciatemi un po' tranquilla qui è troppo bello per ascoltare le vostre scempiaggini lui la stringeva se sebbene lei tentasse con piccoli strattoni di liberarsi e attraverso la franella morbida al tatto sentiva il tepore della sua carne balbettò Ivette ebbene che c'è c'è che vi amo non siete serio pallina ma si vi amo da molto tempo lei tentava sempre di separarsi da Servigny sorsendosi di sfilare il braccio schiacciato tra i due petti e camminavano a stento impacciati da quel legame e da quei movimenti zizzagando come ubriachi lui non sapeva più cosa dirle ben capendo che non si può parlare a una fanciulla come si parla a una donna turbato rimuginando sul da farsi chiedendosi se lei acconsentisse o se non comprendesse spremendosi le meningi per trovare le parole tenere giuste decisive che ci volevano ripeteva di secondo in secondo Ivette su via Ivette poi bruscamente per ogni evenienza le impresse un bacio sulla guancia lei ebbe un piccolo moto di reazione e con aria offesa oh come siete ridicolo mi lascerete o no tranquilla intorno della sua voce non rivelava affatto che cosa pensasse che cosa volesse non vedendola troppo irritata posò le labbra alla base del collo sul primo ciuffo dorato di capelli in quel posto incantevole che bramava da così gran tempo allora Ivette si dibatté con grandi scossoni per sottrarsi ma Servigny la teneva vigorosamente e afferrando la spalla con l'altra mano la costrinse a girare la testa verso di lui e le rubò dalla bocca un bacio conturbante e profondo Ivette scivolò tra le braccia dell'uomo con una rapida ondulazione di tutto il corpo si inabissò lungo il suo petto e uscita violentemente da quella morsa scomparve nell'ombra con un gran fruscio di gonne simile al rumore ed un uccello che vola via Servigny restò dapprima immobile sorpreso da quella agilità e da quella improvvisa sparizione poi non sentendo più nulla chiamò a mezza voce Ivette non rispose allora cominciò a camminare frugando le tenebre con gli occhi cercando tra i cespugli la macchia bianca che il suo vestito doveva formare tutto era buio gridò di nuovo e più forte signorina Ivette gli ucignoli si zettirono affrettava il passo vagamente preoccupato continuando ad alzare il tono della voce signorina Ivette signorina Ivette niente si fermò stette in ascolto tutta l'isola era silenziosa appena un fremito di foglie sopra la sua testa soltanto le rane continuavano il loro sonoro glacidio sulle sponde allora errò di bosco in bosco scendendo verso le rive dritte e cespugliose del braccio rapido tornando poi alle rive piatte e nude del braccio morto avanzò fin quasi davanti a Bougival tornò allo stabilimento della spiaggia sul fiume perquisì ogni cespuglio ripetendo sempre signorina Ivette dove siete rispondete era uno scherzo su rispondete non fatemi cercare così un lontano orologio si mise a suonare Servigny contò i rintocchi mezzanotte perlustrava l'isola da due ore allora pensò che forse era rientrata e tornò indietro ansiosissimo facendo il giro dal ponte un domestico addormentato su una poltrona attendeva nell'ingresso Servigny dopo averlo svegliato gli chiese la signorina Ivette è rientrata da molto l'ho lasciata in fondo al paese perché avevo una visita da fare il servitore rispose oh sì signor duca la signorina era incasata prima delle dieci Servigny raggiunse la sua camera e si mise a letto restava con gli occhi aperti senza riuscire a dormire quel bacio rubato l'aveva agitato e pensava che cosa voleva Ivette che cosa pensava che cosa sapeva com'era bella eccitante i suoi desideri affaticati dalla vita che conduceva da tutte le donne avute da tutti gli amori esplorati si ridestavano davanti a quella curiosa fanciulla così fresca irritante e inesplicabile sentì suonare l'una poi le due decisamente non avrebbe dormito aveva caldo sudava sentiva il cuore battergli rapido nelle tempie si alzò per aprire la finestra entrò un alito fresco che il giovane beve con una lunga inspirazione il fitto buio era muto tutto nero immobile ma tutto un tratto vide dinanzi a sé nelle tenebre del giardino un punto luminoso si sarebbe detto una piccola braccia rossa pensò un sigaro non può che essere che Saval e lo chiamò sottovoce Leon una voce rispose sei tu Jean si aspettami ora scendo si vestì uscì e raggiungendo l'amico che fumava cavalcioni su una sedia di ferro che cosa ci fai qui a quest'ora Saval rispose io mi riposo e si mise a ridere Servigny gli strinse la mano le mie congratulazioni mio caro io invece mi annoio vuol dire che vuol dire che Ivette e sua madre non si assomigliano che cosa è successo racconta Servigny riferì dai suoi tentativi e del loro insuccesso poi riprese decisamente quella piccina mi turba figurati che non sono riuscito a dormire buffo vero una ragazzina un'aria così semplice e non sai niente di lei una donna che ha vissuto che ha amato che conosce la vita la si intuisce rapidamente quando si tratta di una vergine al contrario non ci si capisce più nulla in definitiva comincio a credere che si burli di me Saval dondolava sulla sedia disse molto lentamente sta attento caro mio vuole condurti al matrimonio rammenta altri illustri esempi con lo stesso sistema la signora di montiglio che almeno era di buon ceppo divenne imperatrice non recitare la parte di napoleone Servigny mormorò quanto a questo non ho nulla da temere non sono né un ingenuo né un imperatore bisogna essere l'uno o l'altro per fare simili colpi di testa ma di un po' non hai il sonno no affatto ti va di fare una passeggiata in riva al fiume volentieri aprirono il cancello e cominciarono a scendere lungo il fiume verso Marlì era l'ora fresca che precede l'alba l'ora del grande sonno del grande riposo della calma profonda perfino i lievi brusì della notte si erano placati gli signori non cantavano più le rane avevano finito il loro chiasso soltanto un animale sconosciuto forse un uccello provocava da qualche parte come un cigolio di sega debole monotono regolare come un lavoro meccanico Servigny che a tratti aveva momenti di poesia e anche di filosofia disse improvvisamente vedi quella donna mi sconvolge completamente in aritmetica uno più uno fa due in amore uno più uno dovrebbe fare uno e invece fa due l'hai mai avvertito tu questo bisogno di assorbire una donna in te o di sparire in lei non parlo del bisogno animale dell'abbraccio parlo del tormento morale mentale di fare tutt'uno con una creatura di aprirle tutta la propria anima tutto il proprio cuore di penetrare fino in fondo il suo pensiero e non si riesce mai a sapere tutto di lei a scoprire tutte le fluttuazioni della sua volontà dei suoi desideri delle sue opinioni non si intuisce mai tutto l'ignoto tutto il mistero di un'anima che si sente così vicina di un'anima nascosta dietro due occhi che ti guardano chiari come l'acqua trasparenti come se sotto non vi fosse nulla di segreto di un'anima che ti parla con una bocca amata che sembra tua tanto la desideri di un'anima che ti offre a uno a uno sotto forma di parole e i suoi pensieri e che tuttavia resta lontano da te più di quanto non lo siano queste stelle l'una dall'altra più impenetrabile di questi astri è buffo tutto questo Sabal rispose non chiedo tanto non guardo dietro gli occhi mi preoccupo poco del contenuto ma molto del contenente e Servigny mormorò fatto sta che Ivette è davvero strana come mi tratterà stamattina quando arrivarono alla chiusa di Marlì si accorsero che il cielo diventava pallido i galli cominciavano a cantare nei pollai la loro voce arrivava un po' velata dallo spessore dei muri un uccello pigolava in un parco a sinistra ripetendo continuamente un breve ritornello di una semplicità ingenua e comica sarebbe tempo di rientrare dichiarò Sabal tornarono indietro e quando Servigny entrò nella sua camera attraverso la finestra rimasta aperta intravide l'orizzonte tutto rosa allora chiuse la persiana tirò e incrociò le pesanti tende si coricò e finalmente si addormentò per tutto il suo sonno sognò Yvette uno strano rumore lo svegliò si sedette sul letto rimase in ascolto ma non udì più nulla poi sulla tettoia cominciò un improvviso crepitio simile a quello di una grandinata saltò giù dal letto corse alla finestra la aprì e vide Yvette in piedi nel vialetto che gli gettava a piene mani della sabbia sul volto era vestita di rosa in testa aveva un cappello di paglia larghe tese sormontato da una piuma da moschettiere e rideva in un modo sornione e maligno ebbene pallina dormite che cosa avete mai fatto stanotte per svegliarvi così tardi non avete avuto qualche avventura povero pallina servignire stava abbagliato dalla luce violente del giorno che invadeva bruscamente i suoi occhi ancora intorpiditi dalla stanchezza e sorpresi dalla tranquillità beffarda della ragazza rispose eccomi eccomi signorina il tempo di mettere il naso nell'acqua e sono da voi lei gridò sbrigatevi sono le dieci e poi ho un gran progetto da comunicarvi un complotto che faremo sapete che si fa colazione alle undici la trovò seduta su una panchina con un libro sulle ginocchia un romanzo qualunque lei gli prese il braccio familiarmente amichevolmente in modo franco e gaio come se quella notte non fosse successo nulla e trascinandolo in fondo al giardino ecco il mio progetto disubbidiremo alla mamma e mi condurrete sulla spiaggia voglio tanto vederla mia madre dice che le donne oneste non possono andare in quel posto per me che si possa andarci o non andarci fa lo stesso mi ci porterete non è vero pallina e faremo un gran baccano con i canottieri Yvette profumava senza che Servigny potesse decifrare quale odore vago e leggero alleggiasse attorno a lei non era uno di quei pesanti profumi della madre ma un soffio discreto in cui gli sembrava di cogliere un'ombra di polvere di iris o forse anche un po' di verbena da dove proveniva quel effluvio inafferrabile dal vestito dai capelli o dalla pelle Servigny se lo chiedeva e poiché lei gli parlava vicinissimo riceveva in piano volto il suo alito fresco che gli sembrava altrettanto delizioso da respirare allora pensò che quell'effimero profumo che cercava di riconoscere probabilmente non esisteva se non evocato dai suoi occhi incantati non era altro che una sorta di illusoria emanazione di quella grazia giovane e seducente Yvette diceva siamo intesi non è vero pallina visto che dopo pranzo farà molto caldo la mamma non vorrà uscire si languidisce quando fa caldo la lasceremo in compagnia del vostro amico e voi mi accompagnerete penseranno che saremo saliti nella foresta se sapeste come mi divertirà vedere la spiaggia arrivarono davanti al cancello di fronte alla senna un raggio di sole cadeva sul fiume addormentato e luccicante una nebbiolina di calore se ne sollevava un fumo d'acqua evaporata che creava sulla superficie del fiume un piccolo vapore scintillante di tanto in tanto passava un canotto una rapida iole o un pesante burchiello e sudivano in lontananza fischi brevi o prolungati quelli dei treni che ogni domenica riversano il popolo di Parigi nella campagna del circondario e quelli dei battelli a vapore che avvertono dal loro avvicinamento per passare la chiusa di Marlì ma suonò anche un campanello si annunciava la colazione rincasarono il pasto fu silenzioso un pesante mezzogiorno di luglio schiacciava la terra opprimeva gli esseri il calore sembrava fitto paralizzava le menti e i corpi le parole intorpidite non uscivano dalle labbra e i movimenti apparivano penosi come se l'aria fosse divenuta resistente più difficile da attraversare soltanto Yvette benché silenziosa sembrava animata nervosa di impazienza dopo il dolce chiese che se andassimo a fare una passeggiata nella foresta si starebbe bene sotto gli alberi la marchesa che aveva un'aria estenuata mormorò fai matta come si fa a uscire con un tempo simile e la fanciulla estagiata proseguì va bene ti lasceremo il barone per farti compagnia pallina e io saliremo su per la collina e ci siederemo sull'erba per leggere e voltandosi verso Servigny eh siamo intesi lui rispose al vostro servizio signorina e Yvette corse a prendere il cappello la marchesa scrollò le spalle sospirando è veramente pazza poi tese con una pigrizia poi tese con una pigrizia con una fatica immensa nel suo gesto amoroso e stanco la sua bella mano pallida al barone che la baciò lentamente Yvette e Servigny se ne andarono da prima seguirono il fiume oltrepassarono il ponte entrarono nell'isola si sedettero sull'argine dalla parte del braccio rapido sotto i salici perché era ancora troppo presto per andare alla spiaggia la ragazza ad un tratto estrasse il libro dalla tasca e disse ridendo pallina ora mi leggerete qualcosa e gli porse il volume Servigny ebbe un moto di fuga io signorina ma non so leggere Yvette replicò seriamente su niente scuse non voglio sentire ragioni sapete che mi fate ancora l'effetto di un grazioso spagimante tutto per niente non è così non è questo il vostro motto Servigny ricevette il libro lo aprì restò sorpreso era un trattato di entomologia una storia delle formiche di un autore inglese e visto che restava immobile credendo che lei volesse prenderlo in giro Yvette si spazientì su leggete disse Servigny chiese è una scommessa oppure è una semplice infatuazione no caro ho visto questo libro da un libraio mi hanno detto che era quanto di meglio esisteva sulle formiche e ho pensato che sarebbe stato divertente apprendere la vita di queste bestioline guardandole correre sull'erba leggete e si distese sul ventre con i gomiti poggiati sulla terra la testa tra le mani e gli occhi fissi sul prato Servigny lesse indubbiamente le scimmie artropodi sono tra tutti gli animali quelli che più si avvicinano all'uomo per la loro struttura anatomica ma se consideriamo i comportamenti delle formiche la loro organizzazione in società le loro vaste comunità le case le strade che costruiscono la loro abitudine di addomesticare gli animali e talvolta di fare perfino schiavi siamo costretti ad ammettere che esse hanno il diritto di reclamare un posto accanto all'uomo nella scala dell'intelligenza e continuò con voce monotona fermandosi di tanto in tanto per chiedere non è abbastanza lei faceva no con la testa e avendo catturato con la punta di un filo d'erba strappato una formica errante si divertiva a farla andare da una parte all'altra dello stelo che rovesciava appena l'animale raggiungeva una delle estremità ascoltava con un'attenzione concentrata e muta tutti i sorprendenti particolari della vita di quelle fragili bestie sulle loro installazioni sotterranee sul modo in cui allevano rinchiudono e nutrono i pidocchi per bere il liquido zuccherato che secerano così come noi alleviamo vacche nelle nostre stalle sulla loro usanza di addomesticare piccoli insetti ciechi che puliscono i formicai e di andare in guerra per fare schiavi che si prenderanno cura dei vincitori con tanta sollecitudine che questi ultimi perderanno perfino l'abitudine di mangiare da soli e a poco a poco come se nel suo cuore si fosse ridestata una tenerezza materna verso quella bestiola così piccina e intelligente Yvette la faceva arrampicare sul proprio dito guardandola con occhi commossi e quasi con un desiderio di baciarla e siccome Servigny leggeva del modo in cui vivono in comunità del modo in cui giocano fra loro in lotte amichevoli di forza e di abilità la ragazza presa da entusiasmo volle baciare l'insetto che le sfuggì e si mise a correre sul suo volto allora lanciò un grido acuto come se fosse stata minacciata da un pericolo terribile e con gesti inconsulti si colpì la guancia per ricacciare la bestia Servigny colto da un riso folle la trovò vicino ai capelli e nel luogo in cui l'aveva presa depose un lungo bacio senza che Yvette allontanasse la fronte quindi la ragazza alzando si disse meglio questo che un romanzo ora andiamo alla spiaggia arrivarono nella parte dell'isola piantata a parco e ombreggiata da alberi immensi coppiette erravano sotto le alte fronde lungo la senna dove ci volavano i canotti erano ragazze in compagnia di giovanotti operaie coi loro amanti che camminavano in maniche di camicia il soprabito sul braccio la tuba all'indietro con un'aria ubriaca e stanca borghesi con le loro famiglie le donne vestite a festa e i bambini trotterellanti come una nidiata di pulcini attorno ai loro genitori un rumore lontano e continuo di voci umane un clamore sordo e borbottante annunciava lo stabilimento caro ai canottieri lo vedero apparire all'improvviso un immenso battello coperto da un tetto ormeggiato alla riva conteneva una folla di femmine e di maschi seduti a tavolo e nel latto di bere oppure in piedi che gridavano cantavano urlavano ballavano facevano pirouette al rumore di un pianoforte lamentoso stonato e rimbombante come un paiolo ragazzone dai capelli rossi che mettevano in mostra davanti e dietro la duplice provocazione del loro seno e della loro schiena circolavano con sguardi ad escatori e con le labbra dipinte di rosso ubriache per tre quarti riempendosi la bocca di parole oscene altre ballavano perdutamente di fronte a robusti giovanotti seminudi vestiti solo con delle mutande di tela e con una maglietta di cotone e che avevano sulla testa un berretto colorato come i fantini e tutto ciò esalava un odore di sudore e di cipria e fluvi di profumeria e di ascelle i bevitori attorno ai tavoli tranguciavano liquidi bianchi rossi gialli verdi e gridavano vociferavano senza motivo cedendo a un bisogno violento di far chiasso a un bisogno da bruti di avere le orecchie e il cervello pieni di frastuono di tanto in tanto un nuotatore in piedi sulla tettoia saltava in acqua lanciando una pioggia di schizzi sugli avventori più vicini che reagivano con urla da selvaggi e sul fiume transitava una flotta di imbarcazioni le canoe lunghe e sottili sfilavano sospinte a grandi divocate dai rematori dalle braccia nude i cui muscoli scorrevano sotto la pelle abbronzata le vocatrici con la maglia di flanella azzurra o rossa e un parasole azzurro o rosso anch'esso aperto sulla testa sgargiante sotto il sole cocente si rovesciavano nel sedile a poppa delle barche e sembravano correre sull'acqua in una posa immobile e addormentata battelli più pesanti passavano pieni di gente uno studente un po' alticcio volendo far bella figura remava roteando la pagaia come le pale di un mulino e si scontrava con tutti i canotti suscitando le urla di tutti i vocatori poi spariva sconvolto dopo aver rischiato di far annegare due nuotatori inseguito dalle imprecazioni della folla ammucchiata nel grande caffè galleggiante Yvette raggiante passava a braccetto di Servigny in mezzo a quella folla chiassosa e promiscua sembrava felice di quelle sospette intimità quadrava le ragazze con occhio tranquillo e benevolo guardate questa pallina che bei capelli ha hanno l'aria di divertirsi molto quando il pianista un canottiere vestito di rosso e con in testa un colossale cappello parasole di paglia attaccò un waltzer Yvette afferrò bruscamente il suo compagno per la vita e lo rapì con tutta la furia che solitamente metteva nel ballo ballarono così a lungo e così freneticamente che tutti li guardavano gli avventori in piedi sui tavoli battevano una sorta di tempo con i piedi altri urtavano i bicchieri il musicista sembrava colto da un accesso di rabbia pestava i tasti d'avorio con sobbalsi delle mani gesti folli di tutto il corpo oscillando all'impazzata la testa riparata dall'immenso copricapo improvvisamente si fermò e lasciandoci scivolare per terra si accasciò lungo il pavimento sepolto sotto la propria acconciatura come se fosse morto di fatica una grande risata scoppiò nella sala e tutti applaudirono quattro amici si precipitarono come si fa in occasione di un incidente e raccattando il compagno lo portarono via per le quattro membra dopo aver deposto sul ventre quella specie di tetto con cui si copriva un buon tempone seguendoli intonò il De Profundis e dietro il falso morto si formò una processione che cominciò a percorrere i sentieri dell'isola trascinandosi dietro pian piano clienti passanti tutti coloro in cui si imbatteva e dietro il falso morto si formò una processione che cominciò a percorrere i sentieri dell'isola trascinandosi dietro pian piano clienti passanti tutti coloro in cui si imbatteva ivette vi si lanciò avvinta ridendo con tutto il cuore parlando con tutti scombussolata dal movimento e dal rumore i giovanotti la fissavano negli occhi si accalcavano attorno a lei provocati sembravano fiutarla spogliarla con lo sguardo Servigny cominciava a temere che le cose potessero mettersi al peggio la processione continuava accelerando l'andatura perché i quattro portatori avevano assunto un passo di corsa seguiti dalla folla urlante poi tutt'an tratto si diressero verso la riva si fermarono di scatto e arrivate sul bordo fecero ondeggiare per un po' il loro compagno quindi lasciandolo tutti e quattro contemporaneamente lo gettarono nel fiume un immenso grido di gioia sgorgò da tutte le bocche mentre il pianista stordito gorgogliava bestemmiava tossiva sputava acqua e impantanato nella melma si sforzava di risalire sulla sponda il suo cappello era stato trascinato dalla corrente fu riportato da una barca Yvette danzava per la contentezza battendo le mani e ripetendo oh pallina come mi diverto come mi diverto Servigny la osservava ma era tornato serio un po' infastidito e seccato nel vederla tanto a suo agio in quell'ambiente canagliesco una sorta di istinto in lui si ribellava quell'istinto perbenista che un uomo di buoni natali conserva sempre anche quando si abbandona quell'istinto che lo tiene lontano dalle familiarità troppo avviette e dai contatti troppo disonorevoli ci diceva sorprendendosi diamine sono di un'altra razza io e aveva seriamente voglia di darle del tu come faceva nel suo pensiero come si dà del tu la prima volta che si vedono alle donne che sono di tutti non la distingueva più dalle creature dai capelli rossi che lo sfioravano e che gridavano con le loro voci roche parole o scene correvano nella folla quelle parole grossolane secche e sonore sembravano volteggiare sopra di loro nati là dentro come mosche nelle tame del resto non offrendevano né sorprendevano a quanto pare nessuno Yvette sembrava non notarle neppure pallina voglio fare un bagno disse ora faremo un bel tuffo Servigny rispose al vostro servizio e andarono all'ufficio dei bagni per procurarsi dei costumi lei si spogliò per prima e lo aspettò in piedi sulla riva sorridente sotto gli sguardi di tutti poi si avviarono fianco a fianco nell'acqua tiepida Yvette nuotava con felicità con ebbrezza accarezzata dall'onda fremente ed un piacere sensuale sollevata a ogni bracciata come se stesse per lanciarsi fuori del fiume lui la seguiva a fatica affannato insoddisfatto di sentirsi mediocre ma lei rallentò l'andatura poi girandosi bruscamente fece il morto a galla con le braccia incrociate gli occhi aperti nell'azzurro del cielo Servigny osservava così distesa sulla superficie del fiume la linea flessuosa del suo corpo i seni sodi aderenti alla stoffa leggera e che mostravano la loro forma rotonda e le loro estremità sporgenti il ventre dolcemente sollevato la coscia un po' sommersa il polpaccio nudo scintillante attraverso l'acqua il grazioso piede che emergeva la vedeva tutta intera come se lei si fosse mostrata espressamente per tentarlo per offrirsi o per burlarsi ancora di lui e cominciò a desiderarla con un ardore appassionato e con un nervosismo esasperato improvviso lei si voltò lo guardò e si mise a ridere che faccia onesta avete disse servigni fu infastidito irritato da quello scherno colto da una collera malvagia da innamorato beffato allora cedendo bruscamente a un oscuro bisogno di rappresaglia a un desiderio di vendicarsi di ferirla vi piacerebbe questa vita vivette chiese con la sua solitaria innocente cosa su non prendetevi gioco di me sapete bene ciò che voglio dire no parola d'onore su via finiamola con questa commedia volete o non volete non vi capisco non siete così stupida d'altronde ve l'ho detto ieri sera che cosa che cosa l'ho dimenticato che vi amo voi io che sciocchezza ve lo giuro ebbene provatelo non chiedo che questo cosa provarlo ebbene fatelo non la pensavate così ieri sera non mi avete proposto nulla che stupidaggine e poi tanto per cominciare non è a me che dovete rivolgervi questa è buona e a chi allora ma alla mamma è ovvio servigny scoppiò a ridere a vostra madre no questo è troppo yvette si era fatta d'improvviso serissima e guardandolo fisso negli occhi ascoltate pallina se mi amate davvero abbastanza da volermi sposare parlate prima alla mamma io vi risponderò dopo servigny credette che lei stesse di nuovo burlandosi di lui e perdendogli controllo signorina voi mi prendete per un altro yvette continuava a fissarlo con i suoi occhi dolci e chiari esitò poi disse continuano capirvi allora lui esclamò con un che di brusco e di malvagio nella voce su yvette finiamo questa commedia ridicola che dura da troppo tempo voi giocate a fare la ragazzina ingenua e questa parte non vi si addice affatto credetemi sapete bene che tra noi non può trattarsi di matrimonio bensì d'amore io vi ho detto che vi amavo è la verità lo ripeto vi amo non fate più finta di non capire e non trattatemi come uno sciocco erano in piedi nell'acqua faccia a faccia sostenendosi soltanto con piccoli movimenti delle mani lei restò per qualche secondo ancora immobile come se non potesse decidersi a penetrare il senso di quelle parole poi arrossì all'improvviso arrossì fino alla radice dei capelli tutto il volto si imporporò bruscamente dal collo fino alle orecchie che divennero quasi viola e senza rispondere una sola parola fuggì verso terra nuotando con tutte le forze a grandi e precipitose bracciate servignino riusciva a starle dietro e nell'inseguirla sbuffava di fatica la vide uscire dall'acqua raccogliere il suo cappatoio e dirigersi verso la cabina senza voltarsi l'uomo impiegò molto a rivestirsi assai perplesso su ciò che doveva fare cercando le parole che avrebbe dovuto dirgli domandandosi se dovesse scusarsi o perseverare quando fu pronto lei se n'era andata era andata via da sola sicché se ne tornò lentamente ansioso e turbato la marchesa passeggiava a braccetto con Saval nel viale circolare attorno al prato vedendo servigni disse con quell'aria indifferente che aveva dal giorno precedente cosa avevo detto non bisognava uscire con un caldo simile Ivette ha avuto un colpo di sole è andata a coricarsi era paunazza povera bambina ha una feroce emicrania avrete passeggiato in pieno sole avete fatto follia chissà voi del resto siete poco ragionevole quanto lei la ragazza non scese per la cena poiché volevano portarle da mangiare rispose attraverso la porta che non aveva fame si era chiusa dentro e pregò che la lasciassero tranquilla i due giovani partirono con il treno delle dieci promettendo di tornare il giovedì seguente e la marchesa si sedette davanti alla finestra aperta per pensare ascoltando in lontananza l'orchestra del ballo dei canottieri diffondere la sua musica saltellante nel grande silenzio solenne della notte sospinta per amore e dall'amore come lo suo è dal cavaliere o dal canottaggio aveva repentine tenerezze che la invadevano come una malattia queste passioni la afferravano bruscamente la penetravano interamente la sconvolgevano la innervosevano la prostravano a seconda che avessero un carattere esaltato violento drammatico sentimentale era una di quelle donne create per amare per essere amate partita da molto in basso arrivata grazie all'amore di cui aveva fatto una professione quasi senza saperlo agendo per istinto per un'innata abilità accettava il denaro come i baci naturalmente senza distinguere impiegando il suo notevole fiuto in modo irrazionale e semplice come fanno gli animali che rendono sottili le necessità dell'esistenza molti uomini erano passati per le sue braccia senza che lei provasse per loro alcuna tenerezza senza che sentisse altresì il minimo disgusto a causa delle loro strette subiva qualunque abbraccio con un'indifferenza tranquilla così come in viaggio si mangia un po' di ogni cucina perché bisogna pur vivere ma di tanto in tanto il suo cuore o la sua carne si accendeva e lei cadeva allora in una grande passione che durava qualche settimana o qualche mese secondo le qualità fisiche o morali del suo amante erano i momenti deliziosi della sua vita amava con tutta l'anima con trasporto con estasi si gettava nell'amore come ci si getta in un fiume per annegarsi e lasciarsi trascinare pronta a morire se necessario inebriata sconvolta infinitamente felice ogni volta immaginava di non aver mai provato prima una cosa simile e si sarebbe veramente stupita se gli avessero rammentato quanti uomini diversi aveva sognato perdutamente per intere notti guardando le stelle savalla aveva catturata catturata corpo e anima la marchesa pensava a lui cullata dalla sua immagine e dal suo ricordo nell'esaltazione calma della felicità realizzata della felicità presente e certa un rumore dietro di lei la fece voltare ivetta era entrata ancora vestita come durante la giornata ma ora pallida e con gli occhi lucidi come si hanno nei grandi affaticamenti si appoggiò sul davanzale della finestra aperta di fronte a sua madre devo parlarti disse la marchesa sorpresa la guardava la amava da madre egoista fiera della sua bellezza come lo si è di un patrimonio ancora troppo bella lei stessa per essere gelosa troppo indifferente per fare quei progetti che sorgevano spontanei troppo sottile tuttavia per non essere consapevole di quel valore rispose ti ascolto bambina mia che c'è ivetta la fissava con lo sguardo come per leggere in fondo alla sua anima come per cogliere tutte le sensazioni che le sue parole avrebbero suscitato ecco poco fa è accaduto qualcosa di straordinario che cosa il signor di servigni mi ha detto che mi amava la marchesa inquieta attendeva poiché ivetta non parlava più chiese come te l'ha detto spiegati allora la fanciulla sedendoci ai piedi di sua madre in una posa carezzevole che la era familiare e stringendo le mani aggiunse ha chiesto la mia mano la signora bardi ebbe un gesto brusco di stupefazione ed esclamò servigni ma tu sei folle ivetta non aveva distolto gli occhi dal viso di sua madre spiando nei pensieri e la sorpresa chiese con voce grave perché sarei folle perché il signor servigni non potrebbe sposarmi la marchesa imbarazzata balbettò ti sei sbagliata non è possibile hai sentito male o capito male il signor di servigni è troppo ricco per te è troppo troppo parigino per sposarsi ivetta si era alzata lentamente aggiunse ma se mi ama come dice mamma la madre proseguì un po' spazientita ti credevo abbastanza grande e istruita sulla vita da non farti simili idee servigni è un libertino e un egoista sposerà unicamente una donna del suo mondo e della sua ricchezza e ti ha chiesto il matrimonio è perché vuole perché vuole la marchesa incapace di rivelare i suoi sospetti tacque per un secondo poi riprese su lasciami tranquilla e va a letto e la ragazza come se ora sapesse ciò che desiderava rispose con voce docile sì mamma baciò sua madre sulla fronte e si allontanò con passo calmissimo mentre stava per oltrepassare la porta la marchesa la richiamò e il tuo colpo di sole disse non avevo niente era questo che mi aveva straniata e la marchesa aggiunse ne riparleremo mi raccomando però non restare più sole con lui per un po' di tempo e puoi star certa che non ti sposerà mai capito che vuole soltanto comprometterti non aveva saputo trovare di meglio per esprimere il proprio pensiero e Yvette ritornò nella sua camera la signora Bardì cominciò a pensare vivendo da anni in una quiete amorosa e opulenta aveva allontanato con cura dalla sua mente tutte le riflessioni che avrebbero potuto preoccuparla inquietarla o rattristarla non aveva mai voluto domandarsi che cosa ne sarebbe stato di Yvette avrebbe avuto comunque tempo per pensarci quando le difficoltà sarebbero sopraggiunte intuiva perfettamente col suo fiuto di cortigiana che sua figlia non avrebbe potuto sposare un uomo ricco e dell'alta società se non per una fatalità del tutto improbabile grazie a una di quelle sorprese dell'amore che collocano delle avventuriere sui troni non ci contava nel resto troppo occupata di se stessa per concertare progetti che non la riguardavano direttamente Yvette avrebbe fatto come sua madre sarebbe stata una donna dedita all'amore perché no ma la marchesa non aveva mai osato chiedersi quando né come ciò sarebbe accaduto ed ecco che sua figlia tutta un tratto senza preparazione le faceva una di quelle domande alle quali non si poteva rispondere la costringeva ad assumere un atteggiamento in una questione così difficile così delicata così pericolosa sotto ogni aspetto e così inquietante per la coscienziosità che bisogna mostrare quando si tratta della propria figlia e di queste cose aveva troppa astuzia naturale una astuzia sonnecchiante ma mai addormentata per essersi ingannata a un solo istante sulle intenzioni di Servigny poiché conosceva gli uomini per esperienza e soprattutto gli uomini di quella razza sicché fin dalle prime parole pronunciate da Yvette aveva esclamato quasi suo malgrado Servigny sposarti ma tu sei folle come aveva potuto impiegare quel vecchio espediente lui quel furbo quel volpone quel uomo dedito alle feste e alle donne che cosa avrebbe fatto adesso e lei la piccina come per avvertirla più chiaramente come difenderla poteva infatti commettere qualche grossa ciocchezza si sarebbe mai creduto che quel pezzo di ragazza era rimasta così ingenua così poco avvertita e astuta e la marchesa assai perplessa e già stanca di riflettere rimuginava su ciò che bisognava fare senza trovare alcunché poiché la situazione le sembrava davvero imbarazzante e estenuata da quello sforzo pensò bah li sorveglierò da vicino agirò secondo le circostanze se necessario parlerò a Servigny che è intelligente e mi capirà al volo non si domandò che cosa gli avrebbe detto né ciò che lui avrebbe risposto né quale genere di conversazione avrebbe potuto stabilirsi tra loro ma felice di sentirsi risollevata da quel cruccio senza aver dovuto prendere alcuna risoluzione si rimise a pensare al bel Saval e con gli occhi perduti nella notte rivolti a destra verso quel chiarore nebbioso che aleggia su Parigi con le mani inviò baci verso la grande città baci rapidi lanciati nell'ombra l'uno sull'altro senza contare e a bassa voce come se potesse parlargli mormorava ti amo ti amo anche Yvette non dormiva come sua madre appoggiò i gomiti sul davanzale della finestra aperta e le lacrime le sue prime lacrime tristi le inondarono gli occhi fino a quel momento aveva vissuto era cresciuta in quella fiducia sventata e serena della giovinezza felice perché avrebbe dovuto pensare riflettere esaminare perché non sarebbe potuta essere una ragazza come tutte le altre perché sarebbero dovuti sorgere nella sua mente un dubbio un timore un sospetto doloroso sembrava sapesse tutto perché aveva l'aria di parlare di tutto perché aveva assunto il tono il comportamento le parole audaci delle persone che vivevano attorno a lei ma non ne sapeva di più di una ragazzina educata in un convento le sue temerità verbali scaturivano dalla memoria da quella facoltà di imitazione e di assimilazione che hanno le donne e non da un pensiero disincantato e fattosi ardito parlava dell'amore come il figlio di un pittorio di un musicista parlerebbe di pittura o di musica a dieci o dodici anni sapeva o meglio sospettava pure quale genere di mistero nascondesse quella parola troppe battute erano state sussurrate in sua presenza perché la sua innocenza non fosse stata un po' illuminata ma come avrebbe potuto concludere da tutto ciò che nessuna famiglia assomigliava alla sua baciavano la mano di sua madre con apparente rispetto tutti i loro amici erano titolati tutti erano più o meno ricchi tutti nominavano con familiarità principi di sangue reale perfino due figli di re erano venuti più volte la sera dalla marchesa come avrebbe potuto sapere e poi Ivette era naturalmente ingenua non studiava non fiutava le persone come faceva sua madre viveva tranquilla troppo gioiosa di vivere per preoccuparsi di ciò che forse sarebbe sembrato sospetto a creature più calme più riflessive più chiuse meno espansive e meno trionfanti ma che tutt'un tratto Servigny con poche parole di cui lei aveva intuito la brutalità senza comprenderla aveva svegliato in lei un'improvvisa inquietudine da prima irrazionale poi un'assillante apprensione era tornata a casa era fuggita come un animale ferito ferito in effetti profondamente da quelle parole che si ripeteva incessantemente per intuirne tutta la portata sapete bene che tra noi non può trattarsi di matrimonio bensì d'amore che cosa aveva voluto dire e perché quell'offesa dunque ignorava qualcosa qualche segreto qualche vergogna probabilmente era l'unica a ignorarlo ma che cosa restava sgomenta abbattuta come quando si scopre un'infamia nascosta il tradimento di un essere amato uno di quei disastri del cuore che ti sconvolgono e aveva pensato riflettuto indagato pianto rosa dai timori e dai sospetti poi la sua anima giovane allegra si era rasserenata e aveva cominciato a ricostruire un'avventura a combinare una situazione anormale e drammatica fatta di tutti i ricordi dei romanzi poetici che aveva letto rammentava le peripezie amorose le storie cupe e commoventi che mescolava arrangiava a modo suo di cui abbelliva il mistero intravisto avvolgendo nella propria vita non si desolava più fantasticava sollevava veli immaginava complicazioni inverosimili mille cose singolari terribili comunque seducenti per la loro stranezza e se fosse stata la figlia naturale di un principe la sua povera madre seduta e abbandonata fatta marchese da un re dal re Vittorio Emanuele forse era dovuta fuggire dinanzi alla collera della sua famiglia non era piuttosto una fanciulla abbandonata dai genitori da genitori troppo nobili e troppo illustri frutto di un amore colpevole raccolta dalla marchesa che l'aveva adottata ed educata altre supposizioni ancora attraversavano la sua mente le accettava o rifiutava secondo la propria fantasia si inteneriva di se stessa felice in fondo eppure triste soddisfatta soprattutto di diventare una specie di eroina da romanzo che doveva mostrarsi atteggiarsi assumere un contegno nobile degno di lei e a seconda degli avvenimenti immaginati pensava al ruolo che le toccava recitare lo vedeva vagamente quel ruolo simile a quello di un personaggio di scribe o della sand sarebbe stato fatto di devozione di fierezza di abnegazione di magnanimità di tenerezza e di belle parole la sua natura vivace quasi gioiva di questo nuovo comportamento era rimasta fino a sera a meditare su ciò che avrebbe fatto alla ricerca di un sistema per strappare la verità alla marchesa e quando era sopravvenuta la notte favorevole alle situazioni tragiche aveva infine scogitato una semplice astuzia per ottenere ciò che voleva dire a bruciapelo a sua madre che servigny aveva chiesto la sua mano a questa notizia la signora Bardi sorpresa si sarebbe certamente lasciata sfuggire una parola un grido che avrebbe gettato una luce nella mente di sua figlia e Yvette aveva subito compiuto il suo progetto si attendeva un'esplosione di stupore un'espansione d'amore una confidenza piena di gesti e di lacrime ma ecco che sua madre senza apparire sorpresa o desolata era sembrata soltanto seccata e dal tono contrariato scontento e turbato che aveva usato per risponderle la ragazza nella quale si destavano improvvisamente tutta l'astuzia l'intelligenza e la scaltrezza femminili comprendendo che non bisognava insistere che il mistero era d'altra natura che sarebbe stato più penoso per lei scoprirlo che avrebbe dovuto indovinarlo da sola era tornata nella sua camera con una stretta al cuore con l'anima smarrita oppressa ora sotto il timore di una vera sciagura senza sapere bene da dove né perché le venisse quella emozione e piangeva affacciata alla finestra pianse a lungo senza pensare più a niente senza cercare di saperne di più e a poco a poco prostrata dalla stanchezza chiuse gli occhi si assopì per qualche minuto di quel sonno estenuante delle persone estremate che non hanno energia per spogliarsi e per arrivare al proprio letto di quel sonno pesante e ininterrotto da bruschi risvegli quando la testa scivola fra le mani si coricò soltanto alle prime luci dell'alba quando il freddo del mattino gelandola la costrinse a lasciare la finestra per i due giorni che seguirono mantenne un atteggiamento riservato e malinconico in lei si consumavano un lavorio incessante e rapido un travaglio fatto di riflessioni imparava a spiare a presentire a ragionare una luce ancora vaga le sembrava illuminare in un modo nuovo gli uomini e le cose attorno a lei e le insorgeva un sospetto contro tutti contro tutto ciò che aveva creduto contro sua madre tutte le supposizioni Ivette le fece in quei due giorni esaminò tutte le possibilità rettandosi nelle risoluzioni più estreme con la rudezza della sua natura mutevole senza misura quel mercoledì architettò un piano un intero sistema di comportamento e di spionaggio giovedì mattina si alzò con la risoluzione di essere più scaltra di un poliziotto e sul piede di guerra contro tutti decise anche di assumere come motto queste due parole io sola e rimuginò per più di un'ora in quale modo avrebbe potuto disporle perché producessero un bell'effetto incisa intorno alle sue iniziali sulla carta da lettere Saval e Servigny arrivarono alle dieci la ragazza tese loro la mano con riserbo senza imbarazzo e in tono familiare benché serio buongiorno pallina come va buongiorno signolina non c'è male e voi Servigny la scrutava che genere di commedia mi reciterà si diceva quando la marchesa prese il braccio di Saval lui prese quello di Ivette e cominciarono a passezzare intorno al prato apparendo e scomparendo dietro i cespugli e i boschetti Ivette camminava con alea calma e assorta guardando la sabbia del viale sembrando ascoltare appena ciò che diceva il suo compagno e rispondendo a stento l'improvviso domandò mi siete davvero amico pallina diamine signorina ma dico davvero davvero interamente vostro amico signorina corpo e anima al punto di non mentire una volta una volta soltanto anche due volte se occorre al punto di dirmi tutta la verità una sacrosanta verità tutta intera sì signorina ebbene che ne pensate in fondo ma proprio in fondo del principe Kravlov ah questa poi vedete che vi preparate già a mentire no ma cerco le parole le parole giuste mio dio il principe Kravlov è un russo un vero russo che parla russo che è nato in Russia che forse ha avuto un lasciapassare per venire in Francia e che di falso ha soltanto il nome e il titolo lei lo fissava negli occhi volete dire che Servigny esitò poi si decise un avventuriero signorina grazie il cavaliere Valreale non è migliore di lui vero? l'avete detto e il signor Belvigne quello là è un altro paio di maniche è un uomo di società di provincia onorabile fino a un certo punto soltanto un po' logorato dai troppi abusi e voi? rispose senza esitare io sono quello che si chiama un festaiolo un ragazzo di buona famiglia che aveva dell'intelletto e l'ha sciupato in facezie che aveva la salute e la perduta nei bagordi che forse aveva del talento e l'ha seminato a non far niente mi restano in fin dei conti un patrimonio una certa pratica della vita un'assenza di pregiudizio abbastanza completa un ampio disprezzo per l'umanità e vi comprese le donne un profondo sentimento dell'inutilità delle mie azioni e una vasta tolleranza per la volgarità dilagante tuttavia a momenti ho ancora un po' di franchezza come vedete e sono anche capace di affetto come potrete vedere con questi difetti e queste qualità mi metto ai vostri ordini signorina moralmente e fisicamente perché voi disponiate di me come volete ecco tutto Yvette non rideva ascoltava scrutando parole e intenzioni proseguì che ne pensate della contessa di Lammy Servigny esclamò consentitemi di non esprimere la mia opinione sulle donne su nessuna su nessuna allora dovete giudicarle malissimo tutte su pensateci non potete fare alcuna eccezione Servigny sogghignò con quell'aria insolente che serbava quasi costantemente e con quell'audacia brutale di cui si faceva una forza un'arma si fa sempre un'eccezione con le persone presenti lei arrossì un po' ma chiese con grande calma ebbene che cosa pensate di me volete saperlo e sia penso che siate una persona di grande acume di grande pratica o se preferite di grande senso pratico che sa dissimulare bene il proprio gioco divertirsi alle spalle della gente nascondere le sue opinioni tendere i suoi fili e che aspetta senza fretta l'evento lei chiese tutto qui tutto qui allora disse con una seria gravità vi farò cambiare questa opinione pallina poi si avvicinò a sua madre che camminava a piccoli passi con la testa bassa con quell'andatura e l'anguidita che si prende quando si parla sottovoce passeggiando di cose estremamente intime e dolci incedendo tracciava figura sulla sabbia lettere forse con la punta del parasole e parlava senza guardare Saval parlava a lungo lentamente appoggiata al suo braccio stretta a lui Ivette la fissò improvvisamente con lo sguardo e un sospetto vago al punto che non lo formulò neppure una sensazione piuttosto che un dubbio le passò per la mente come passa sulla terra d'ombra di una nuvola cacciata dal vento il campanello suonò per annunciare il pranzo il pasto fu silenzioso e quasi cupo come suol dirsi c'era aria di burrasca grosse nube immobili sembravano nascoste in fondo all'orizzonte mute e pesanti ma cariche di tempesta dopo che si fu preso il caffè in terrazza la marchesa domandò ebbene piccina farai anche oggi la tua passeggiata con il tuo amico Servigny è un tempo ideale per prendere un po' di fresco sotto gli alberi Ivette le lanciò uno sguardo rapido subito distolto no mamma oggi non esco la marchesa parve contrariata insistette va a fare due passi bambina mia è un'ottima cosa per te allora Ivette esclamò con voce brusca no mamma oggi resto a casa e tu sai bene perché visto che te l'ho detto l'altra sera la signora Bardi non ci pensava non ci pensava più interamente presa dal desiderio di restare sola con Saval arrossì si turbò e preoccupata per se stessa non sapendo come fare per trovarsi libera un'ora o due balbettò è vero non ci avevo pensato hai ragione non so dove avevo la testa Ivette prendendo un lavoro di ricamo che chiamava la salute pubblica e con cui teneva occupate le mani cinque o sei volte l'anno nei giorni di calma piatta si sedette su uno sgabello accanto a sua madre mentre gli altri due a cavalcioni su delle seggiole fumavano un sigaro le ore passavano in una conversazione pigra e via via morente la marchesa nervosa lanciava a Saval sguardi smarriti cercava un pretesto un espediente per allontanare sua figlia infine capì che non ci sarebbe riuscita e non sapendo che astuzia usare disse a Servigny sappiate caro duca che stasera sarete entrambi i miei ospiti domani andremo insieme al ristorante Fourneis a Chateau lui comprese sorrise e inchinandosi sono ai vostri ordini marchesa e la giornata scorreva lentamente penosamente sotto le minacce del temporale a poco a poco si avvicinò l'ora di cena il cielo plimente si riempiva di nubilente e pesanti non un fremito d'aria passava per la pelle il pasto della sera fu anch'esso silenzioso un fastidioso imbarazzo una sorta di vago timore sembravano rendere muti i due uomini e le due donne quando la tavola fu sparecchiata restarono sulla terrazza parlando solo dopo lunghe pause scendeva la notte una notte soffocante d'improvviso l'orizzonte fu lacerato da un immenso gancio di fuoco che illuminò con una fiamma abbagliante e livida i quattro volti già sepolti nell'ombra poi un rumore lontano un rumore sordo e debole simile al passaggio di una carrozza su un ponte attraversò la terra e sembrò che il calore dell'atmosfera aumentasse che l'aria diventasse bruscamente ancora più opprimente il silenzio della sera più profondo Yvette si alzò vado a letto il temporale mi fa male tese la fronte alla marchesa offrì la mano ai due giovanotti e se ne andò poiché la sua camera era per l'appunto sopra la terrazza le foglie di un grande castagno piantato davanti alla porta si illuminarono presto di un chiarole verde servigny restava con gli occhi fissi su quella luce pallida tra le fronde dove a tratte gli sembrava di veder passare un'ombra ma la luce si spense subito dopo la signora Bardi tirò un gran sospiro di sollievo mia figlia è a letto disse servigny si alzò io vado a fare altrettanto marchesa se permettete baciò la mano che lei le tendeva e scomparve a sua volta e così lei resta sola con Saval nella notte fu subito tra le sue braccia allacciandolo stringendolo poi benché quest'ultimo tentasse di impedirglielo si inginocchiò davanti a lui morborando voglio guardarti alla luce dei lampi ma Yvette dopo aver soffiato sulla candela era tornata sul balcone a piedi nudi scivolando come un'ombra e ascoltava rosa da un sospetto doloroso e confuso non poteva vedere trovandosi sopra di loro sul tetto stesso della terrazza udiva soltanto un mormulio di voci nel suo cuore batteva così forte da rimbombare nelle orecchie una finestra si chiuse sopra la loro testa sicché anche Servigny era salito sua madre era sola con l'altro un secondo lampo fendendo il cielo in due fece scorgere per un secondo tutto quel paesaggio che lei conosceva bene in una luce violenta e sinistra e vide il grande fiume color piombo fuso come si immaginano i fiumi di paesi fantastici improvvisamente una voce sotto di lei pronunciò ti amo Yvette non odì più nulla uno strano brivido le aveva attraversato il corpo e la sua mente vagava in uno spaventoso turbamento un silenzio pesante infinito che sembrava il silenzio eterno alleggiava sul mondo non poteva più respirare il petto era oppresso da qualcosa di ignoto e di orribile un altro lampo infiammò lo spazio illuminò per un istante l'orizzonte poi ne seguì quasi subito un altro poi un altro ancora e la voce che aveva già udito innalzandosi ancora più forte ripeteva oh come ti amo come ti amo Yvette la riconosceva perfettamente quella voce la voce di sua madre una grande goccia d'acqua tiepida le bagnò la fronte e un piccolo fremito quasi impercettibile agitò le foglie il fremito della pioggia che comincia a cadere poi sudì un fragore arrivare da lontano un fragore confuso simile al sibilo del vento tra i rami era il pesante temporale che si abbatteva come una coltre sulla terra sul fiume sugli alberi in pochi istanti l'acqua grondò attorno a lei coprendola schizzandola penetrandola come un bagno Yvette non si muoveva pensava soltanto a quel che facevano sulla terrazza li sentì alzarsi e salire sulle rispettive camere qualche porta si chiuse all'interno della casa e la ragazza obbedendo a un desiderio di sapere irresistibile che la sconvolgeva e la torturava si precipitò sulle scale aprì pian piano la porta esterna e attraversando il prato sotto la pioggia che cadeva furiosamente corse a nascondersi in un cespuglio per guardare le finestre allora smarrita senza riflettere senza sapere cosa faceva gridò con tutte le sue forze con una voce sopracuta mamma come si grida per avvertire la gente di un pericolo mortale il suo richiamo disperato si perse nello sciabordio dell'acqua ma la coppia vinta si separò inquieta e una delle ombre sparì mentre l'altra cercava di distinguere qualcosa attraverso le tenebre del giardino allora temendo di essere sorpresa di incontrare sua madre in quell'istante Yvette si lanciò verso casa risalì precipitosamente le scale lasciandosi dietro una scia d'acqua che colava gradino su gradino e si chiuse in camera decisa a non aprire la porta a nessuno e senza togliersi il vestito grondante e incollato alla pelle cadde in ginocchio e a mani giunte implorando nella sua sventura qualche protezione sovrumana il soccorso misterioso del cielo l'aiuto sconosciuto che si invoca nelle ore di pianto e di disperazione i grandi lampi proiettavano da un istante all'altro i loro riflessi lividi nella sua camera Yvette si vedeva bruscamente nello specchio dell'armadio con i capelli sciolti e zuppi talmente strana da non riconoscersi restò in quella posa a lungo così a lungo che il temporale si allontanò senza che lei se ne accorgesse la pioggia cessò di cadere un chiarore invase il cielo ancora oscurato dalle nubi e una freschezza tiepida saporosa deliziosa una freschezza d'erbe e di foglie bagnate cominciò a entrare attraverso la finestra aperta Yvette si rialzò si tolse i vestiti intresi d'acqua e freddi senza neppure pensare a ciò che faceva e si mise a letto quindi restò così a fissare il giorno nascente poi pianse ancora poi pensò sua madre un amante che vergogna ma aveva letto tanti libri in cui certe donne perfino delle madri si abbandonavano a ciò per assurgere a nuovo onore nelle pagine dell'epilogo che non si stupiva altremodo di trovarsi avviluppata in un dramma simile a tutti i drammi delle sue letture la violenza del suo primo dispiacere lo sgomento crudele della sorpresa si attenuavano già un poco nel ricordo confuso di situazioni analoghe il suo pensiero aveva errato in avventure così tragiche poeticamente introdotte dai romanzi che l'orribile scoperta le appariva più o meno la continuazione naturale di qualche romanzo d'appendice iniziato il giorno prima si disse salverò mia madre e quasi rasserenata da quella risoluzione da eroina si sentì forte improvvisamente pronta per l'abnegazione e per la lotta , riflettè sui mezzi che avrebbe dovuto impiegare uno soltanto le sembra buono perché era affine alla sua natura romanzesca e preparò come un attore prepara la scena che sta per recitare il colloquio che avrebbe avuto con la marchesa il sole era sorto i servitori circolavano per la casa la cameriera entrò con la cioccolata Yvette fece posare il vassoio sul tavolo e disse dite a mia madre che sto male che resterò a letto fino alla partenza di quei signori che non sono riuscita a dormire tutta la notte e che non voglio essere disturbata perché ho intenzione di riposarmi la domestica sorpresa guardava il vestito zuppo e lasciato cadere come un cencio sul tappeto la signorina è forse uscita disse sì ho fatto una passeggiata sotto la pioggia per rinfrescarmi e la serva raccolse gonne calze stivaletti sporchi quindi se ne andò portando sotto braccio con precauzioni un po' disgustate quegli indumenti intrisi di acqua come stracci di annegato e Yvette aspettò ben sapendo che sua madre sarebbe venuta la marchesa infatti entrò perché era saltata giù dal letto alle prime parole della cameriera perché le era rimasto un dubbio da quel grido mamma udito nell'ombra che cos'hai disse Yvette la guardò farfugliò oh poi colta da un'emozione improvvisa e terribile cominciò a soffocare la marchesa stupita chiese di nuovo insomma che cos'hai allora dimenticando tutti i suoi progetti e le frasi preparate la fanciulla si nascose il volto tra le mani balbettando oh mamma oh mamma la signora Robert D restò in piedi davanti al letto troppo agitata per comprendere bene ma intuendo quasi tutto con quell'istinto sottile che era la sua vera forza visto che Yvette non poteva parlare strozzata dalle lacrime sua madre innervosendosi infine e paventando l'avvicinarsi di una spiegazione sgradevole domanda bruscamente su mi dici che cosa ti prende Yvette poté appena pronunciare oh stanotte ho visto la tua finestra la marchesa pallidissima articolò ebbene la figlia ripetè continuando a singhozzare oh mamma oh mamma la signora Bardi la cui paura e il cui imbarazzo si tramutavano in collera scrollò le spalle e si girò per andarsene comincio davvero a credere che sei pazza quando sarà tutto finito vi starai a sentire ma la ragazza d'un tratto liberò il viso dalle mani piene di lacrime no ascolta devo parlarti ascolta devi promettermi partiremo tutte e due andremo lontano in campagna e vivremo come contadine nessuno saprà quale sarà la nostra sorte vuoi mamma ti prego ti supplico lo vuoi la marchesa interdetta restava in mezzo alla camera nelle sue vene scorreva sangue popolare sangue ilascibile ma poi sopravvenne in lei una vergogna un pudore di madre misto a un vago sentimento di paura e un'esasperazione di donna appassionata il cui amore minacciato e cominciò a tremare pronta a chiedere perdono a gettarsi in qualche azione violenta non ti capisco disse Yvette proseguì ti ho vista mamma stanotte non bisogna più se tu sapessi partiremo tutte e due ti amerò fin tanto che non dimenticherai la signora Bardia scramò con voce tremante ascolta figlia mia ci sono cose che ancora non puoi capire ebbene non dimenticare non dimenticare che ti proibisco di parlarmi mai di 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 queste cose ma la fanciulla assumendo bruscamente il ruolo di salvatrice che si era imposto disse no mamma non sono più una bambina e ho il diritto di sapere ebbene so che riceviamo gente malfamata avventurieri so anche che per questo motivo non siamo rispettate e so altro ebbene non bisogna più farlo capisci? non voglio ce ne andremo venderai i tuoi gioielli lavoreremo se necessario e vivremo come donne oneste da qualche parte molto lontano e se riesco a trovare marito tanto meglio sua madre la guardava con i suoi occhi neri irritati rispose tu sei folle ora mi farà il piacere di alzarti e di venire a fare colazione con tutti gli altri no mamma c'è qualcuno che non intendo rivedere mi hai capito voglio che esca altrimenti uscirò io aspetta a te scegliere tra lui e me si era seduta nel letto e alzava la voce parlando come si parla sul palcoscenico entrando finalmente nel dramma che aveva vaghezzato dimenticandosi quasi il proprio dispiacere per non avere altro in mente se non la propria missione la marchesa stupefatta ripete ancora una volta ma tu sei folle non trovando nient'altro da dire Yvette replicò con un'energia teatrale no mamma quell'uomo lascerà la casa oppure me ne andrò io su questo non cedo e dove andrai che farai non so non mi importa voglio che noi siamo donne oneste quell'espressione che tornava donne oneste suscitò nella marchesa un furore giovanile e la spinse a gridare taci non ti permetto di parlarmi così io valgo quanto qualunque altra donna hai capito sono una cortigiana è vero e ne sono fiera le donne oneste non sono meglio di me Yvette a battuta la guardava balbettò oh mamma ma la marchesa esaltandosi eccitandosi ebbene sì sono una cortigiana e allora se non fossi una cortigiana oggi tu saresti una cuoca come lo ero io un tempo e lavoreresti a giornata per trenta soldi e laveresti i piatti e la tua padrona ti manderebbe dal macellaio e ti metterebbe alla porta se perdessi tempo mentre adesso perdi tempo tutto il giorno perché io sono una cortigiana ecco tutto quando sei una semplice serva una povera ragazza con 50 franchi di risparmi devi saperterla cavare se non vuoi crepare di fame e non ci sono altre strade per noi non ce ne sono altre capisci quando sei una serva non possiamo fare fortuna con una carica né con intrallazzi di borsa non abbiamo altro che il nostro corpo nient'altro che il nostro corpo si batteva il petto come un penitente che si confessa e arrossita esaltata avanzando verso il letto tanto meglio se sei una bella ragazza bisogna vivere di questo oppure patire la miseria per tutta la vita tutta la vita non c'è scelta poi tornando bruscamente al suo ragionamento lo dici tu che le donne oneste si sacrificano sono loro le vere donnazze capisci? perché nulla le costringe a farlo hanno il denaro hanno di che vivere e divertirsi e si prendono di uomini per vizio loro sì che sono donnacce era in piedi accanto al letto di Ivette smarrita che aveva voglia di gridare aiuto di fuggire e che piangeva silenziosamente come i bambini che vengono picchiati la marchesa la marchesa tacque guardò sua figlia e vedendola sconvolta dalla disperazione si sentì lei stessa invasa dal dolore dai rimorsi dalla commozione dalla pietà e accasciandosi sul letto e spalancando le braccia cominciò a singhiozzare e balbettò povera piccina povera piccina se sapessi quanto mi fai male e piansero entrambe a lungo poi la marchesa nella quale il dolore non attecchiva si rialzò pian piano disse sottovoce su piccina è così che vuoi farci non ci si può fare più nulla ormai bisogna prendere la vita come viene Ivette continuava a piangere il colpo era stato troppo forte e troppo inatteso perché potesse riflettere e rimettersi sua madre proseguì su alzati e vieni a fare colazione perché nessuno si accorga di niente la fanciulla faceva no con la testa senza riuscire a parlare finalmente disse con voce lenta piena di singhiozzi no mamma sai che cosa ti ho detto non cambierò idea non uscirò dalla mia camera prima che siano partiti non voglio vedere più nessuna di quelle persone mai mai se tornano io io non mi vedrai mai più la marchesa si era asciugata agli occhi e stanca di emozioni mormorò su via rifletti si ragionevole poi dopo un minuto di silenzio si forse è meglio che stamattina ti riposi verrò a trovarti nel pomeriggio e dopo aver baciato sua figlia sulla fronte uscì per vestirsi già calmata ivette non appena sua madre se ne fu andata si alzò e corse a tirare il chiavistello per restare sola completamente sola quindi cominciò a riflettere la cameriera bussò verso le undici e chiese attraverso la porta la signora marchesa fa domandare se la signorina ha bisogno di qualcosa e che cosa desidera per colazione ivette rispose non ho fame vi prego soltanto di non essere disturbata e restò a letto come se fosse molto stanca verso le tre bussarono di nuovo ivette chiese chi è era la voce di sua madre sono io piccina venivo a vedere come stai esitò che fare aprì poi si rimise a letto la marchesa si avvicinò e parlando a mezza voce come al capezzale di una convalescente ebbene stai un po' meglio non vuoi mangiare un uovo no grazie niente affatto la signora Bardì si era seduta accanto al letto rimasero senza dirsi nulla poi finalmente da che sua figlia restava immobile con le mani inerti sulle lenzuola non ti alzi ivette rispose si tra poco poi con un tono di voce grave e lento ho molto riflettuto mamma ed ecco ecco la mia decisione in passato è passato non parliamone più ma il futuro sarà diverso oppure oppure so cosa mi resterebbe da fare e ora chiudiamo il discorso la marchesa che credeva fossero finite le spiegazioni sentì che nel proprio intimo l'impazienza prendeva il sopravvento ora era troppo quell'oca di ragazza avrebbe dovuto sapere da tempo ormai ma non rispose nulla e ripete ti alzi o no sì sono pronta allora sua madre le fece da cameriera portandole le calze il busto le gonne e infine la baciò vuoi fare due passi prima di pranzo sì mamma e andarono a passeggiare lungo il fiume parlando soltanto di cose banalissime 4 il giorno seguente di primo mattino Yvette se ne andò tutta sola a sedersi nel luogo in cui Servigny le aveva letto la storia delle formiche si disse non me ne andrò di qui prima di aver preso una decisione davanti a lei ai suoi piedi scorreva l'acqua l'acqua rapida del braccio vivo piena di mulinelli di vasti gorgogli che scorrevano in una fuga muta creando profondi turbinii aveva già esaminato tutti gli aspetti della situazione e tutte le vie d'uscita che cosa avrebbe fatto se sua madre non avesse rispettato scrupolosamente la condizione che lei aveva posto se non avesse rinunciato alla sua vita al suo mondo a tutto per nascondersi con lei in un paese lontano poteva andarsene da sola fuggire ma dove ma come di che cosa avrebbe vissuto di lavoro quale a chi si sarebbe rivolte per trovare un'occupazione e poi l'esistenza tetra e umile degli operai delle ragazze del popolo e sembrava un po' vergognosa indegna di lei pensò di diventare istitutrice come le giovani donne dei romanzi di essere amata e poi sposata dal rampollo della casa ma bisognava che fosse di buona famiglia che potesse fermare con voce fiera allorché il padre esasperato le avrebbe rimproverato di aver rubato l'amore del figlio mi chiamo ivetto bardi non poteva e poi sarebbe stato anche quello un espediente banale scontato il convento non era migliore d'altronde non sentiva in sé alcuna vocazione per la vita religiosa provando poco più di una pietà intermittente e fugace nessuno poteva salvarla sposandola visto ciò che era non essendo accettabile alcun genere di aiuto da un uomo non c'era via d'uscita non c'era una sola risorsa risolutiva e poi Yvette voleva qualcosa di energico di veramente grande di veramente forte che servisse da esempio e così decise di morire vi si risolse all'improvviso tranquillamente come se si trattasse di un viaggio senza riflettere senza vedere la morte senza comprendere che è la fine senza un nuovo inizio la partenza senza ritorno l'addio eterno alla terra alla vita si sentì immediatamente ben disposta a quella determinazione estrema con la leggerezza delle anime esaltate e giovani pensò al mezzo che avrebbe impiegato ma tutti le apparivano di esecuzione difficile e rischiosa e richiedevano inoltre un'azione violenta che la ripugnava rinunciò subito al pugnale e alla rivoltella che possono soltanto ferire rendere storpio e sfigurare e che esigono una mano esercitata e sicura alla corda che è volgare suicidio da povero ridicolo oltre che brutto all'acqua perché sapeva nuotare restava dunque il veleno ma quale quasi tutti fanno soffrire provocando vomiti non voleva né soffrire né vomitare allora pensò al cloroformio perché aveva letto nella cronaca come aveva fatto una giovane donna ad asfissiarsi con questo sistema e provò subito una specie di gioia della propria decisione un intimo orgoglio una sensazione di fiarezza avrebbero visto chi era quanto valeva tornò a Bougival e si recò dal farmacista al quale domandò un po' di cloroformio per un dente che le faceva male l'uomo che la conosceva le diede un minuscolo flacone di narcotico allora Yvette si avviò a piedi per Croissy dove si procurò una seconda fiala di veleno e ottenne una terza a Chateau una quarta a Ruel e rincasò in ritardo per la colazione poiché aveva una gran fame dopo quelle scorribande mangiò molto con quel piacere delle persone cui l'esercizio dà l'appetito sua madre felice di vederla tanto affamata sentendosi finalmente tranquilla le disse mentre si alzavano da tavola tutti i nostri amici verranno a passeggiare qui la domenica ho invitato il principe il cavaliere e il signor di Belvigna Yvette divenne un po' pallida ma non rispose nulla uscì quasi subito andò alla stazione e prese un biglietto per Parigi per tutto il pomeriggio andò di farmacia in farmacia comprando in ciascuna poche gocce di cloroformio tornò la sera con tasche piene di flaconcini l'indomani ricominciò questo maneggio ed essendo entrata per caso da un droghiere riuscì ad ottenere in un sol colpo un quarto di litro il sabato non uscì era una giornata coperta e tiepida la passò interamente sulla terrazza distesa su una poltrona di vimini non pensava quasi a niente estremamente risoluta e tranquilla il giorno seguente indossò un vestito blu che le stava benissimo perché voleva essere bella guardandosi allo specchio si disse tutta un tratto domani sarò morta e un singolare brivido le attraversò il corpo morta non parlerò più non penserò più nessuno mi vedrà più e io non vedrò più niente di tutto questo contemplava attentamente il proprio viso come se non l'avesse mai osservato esaminando soprattutto gli occhi scoprendo in sé mille cose un carattere segreto della propria fisionomia che non conosceva stupendosi di vedersi come se avesse di fronte a sé un'estranea una nuova amica si diceva sono io sono io questo specchio com'è strano guardare se stessi eppure senza lo specchio non ci conosceremmo mai tutti gli altri saprebbero come siamo e noi invece lo ignoreremmo prese i folti capelli intrecciati a bande prese i folti capelli intrecciati a bande e li rabbiò sul petto seguendo con gli occhi ogni gesto ogni posa ogni movimento come sono bella pensò domani sarò morta qui sul mio letto guardò il letto e le sembrò già di vedersi distesa bianca come le lenzuola morta tra otto giorni questo volto questi occhi queste guance non saranno altro che un nero marciume in una cassa in fondo alla terra un'orribile angoscia le strinse il cuore il chiaro sole cadeva a fiotti sulla campagna e l'aria mite del mattino entrava dalla finestra si sedette pensando a questo morta per lei sarebbe stato come se il mondo scomparisse ma no già che niente sarebbe cambiato in quel mondo nemmeno la sua camera sì la sua camera sarebbe rimasta esattamente identica con lo stesso letto le stesse sedie la stessa toletta ma lei al contrario se ne sarebbe andata per sempre e nessuno se ne sarebbe rattristato tranne forse sua madre avrebbero detto com'era bella la piccola Yvette tutto qui e mentre guardava la propria mano appoggiata sul bracciolo della poltrona pensò di nuovo a quel marciume a quella poltiglia nera maleodorante cui si sarebbe ridotta la sua carne e di nuovo un gran brivido d'orrore le attraversò tutto il corpo non riusciva a capacitarsi di come sarebbe potuta sparire senza che la terra intera si annientasse tanto le sembrava di far parte del tutto della campagna dell'aria del sole della vita in giardino vi fu un grande scoppio di risa un gran brusì di voci di richiami quell'allegria chiassosa delle scampagnate che cominciano e Yvette riconobbe la voce sonora del signor di Belvigne che cantava sono sotto la tua finestra degnati infine di apparire si alzò senza riflettere e andò a guardare tutti applaudirono erano là tutti e cinque con altri due signori che non conosceva indietrezzò bruscamente straziata dal pensiero che quegli uomini venivano a divertirsi in casa di sua madre in casa di una cortigiana il campanello suonò per il pranzo ora mostrerò loro come si muore si disse esce giù con un passo fermo con qualcosa della determinazione dei martiri cristiani quando entravano nel circo dove li attendevano i leoni strinse le mani sorridendo in modo affabile ma un po' altero servigni le chiese siete meno imbronciata oggi signorina lei rispose con un tono severo e singolare oggi voglio fare follie ho il mio umore di Parigi state in guardia poi girandosi verso il signor di Belvigne voi siete il mio cicisbeo caro malvasia dopo pranzo vi porterò tutti alla festa di Merlì in effetti a Merlì c'era una festa le presentarono i due nuovi venuti il conte di Tamin e il marchese di Birquetot durante il pasto non parlò quasi concentrandosi con uno sforzo di volontà per essere allegra nel pomeriggio perché nessuno sospettasse di niente perché ci si stupisse di più perché si dicesse chi l'avrebbe pensato sembrava così felice così contenta chissà cosa passa per queste teste si sforzava di non pensare alla sera allora prestabilita quando sarebbero stati tutti sulla terrazza beve più vino che potè per caricarsi oltre a due bicchierini di buon champagne e quando si alzò da tavola era rossa in volto un po' stordita con un gran caldo nel corpo e nello spirito così le sembrava ormai temeraria e decisa a tutto in marcia gridò prese il braccio del signor di Belvigne e regolò il passo degli altri forza ora formerete il mio battaglione Servigny vi nomino Sergente vi terrete al di fuori sulla destra poi farete marciare in testa la legione straniera i due esotici il principe e il cavaliere quindi dietro le due reclute che imbracciano le armi oggi andiamo partirono Servigny imitava il suono della tromba mentre i due nuovi venuti facevano finta di suonare il tamburo il signor di Belvigne un po' confuso diceva a bassa voce signorina Yvette su via siate ragionevole così vi comprometterete lei rispose è voi che comprometto marmellata d'uva quanto a me me ne importa ben poco domani non ci si penserà più tanto peggio per voi non bisogna uscire con ragazze come me attraversarono Bouchival con gran sorpresa dei passanti tutti si giravano gli abitanti si affacciavano sulle porte i viaggiatori del trenino che va a Darwell a Merlì li fischiavano i uomini in piedi sulle piattaforme gridavano in acqua in acqua Yvette marciava con passo militare tenendo sotto braccio Belvigne come si scorta un prigioniero non rideva serbando sul volto una pallida serietà una sorta di immobilità sinistra Servigny interrompeva la sua tromba per urlare ordini il principe e il cavaliere si divertivano molto trovavano la cosa buffissima e di vero gusto i due giovanotti suonavano il tamburo ininterrottamente quando arrivarono sul luogo della festa suscitarono emozione i ragazzi applaudirono i giovanotti sghignazzarono un grosso signore che dava il braccio a sua moglie dichiarò con una specie di invidia nella voce ecco qualcuno che di sicuro non si annoia Yvette intravide due cavallucci di legno e costrinse Belvigne a montare alla sua destra mentre il suo distaccamento dava la scalata da dietro alle bestie girevoli quando il divertimento fu terminato Yvette si rifiutò di scendere costringendo la propria scorta a restare cinque volte di seguito sulla groppa di quelle montature infantili con grande gioia del pubblico che urlava battutacce il signor di Belvigne livido in volto scendendo aveva il volto a stomaco poi la ragazza cominciava a vagabondare attraverso i baracconi costrinse tutti i suoi uomini a farsi pesare in mezzo a un cerchio di spettatori fece comprare loro ridicoli giocattoli che dovettero portare tra le brazza il principe e il cavaliere cominciarono a trovare lo scherzo troppo pesante soltanto Servignia e i due tamburini non si scoraggiavano finalmente arrivarono in fondo al paese allora Yvette contemplò i suoi seguaci in modo singolare con occhio sorgnone e malvagio e colta da uno strambo caprizzo li fece schierare sulla riva destra che domina il fiume chi mi ama di più ci getti in acqua disse nessuno saltò dietro di loro si formò un assembramento donne in grembule bianco osservavano stupefatte due marmittoni con i pantaloni rossi ridevano con aria stupida Yvette ripetè dunque nessuno di voi è capace di gettarsi in acqua per il mio espresso desiderio Servigni mormorò ma peggio per me e si lanciò in piedi nel fiume il suo tuffo provocò schizzi fin sui piedi di Yvette un mormorio di stupore e di allegria si innalzò dalla folla allora la ragazza raccolse per terra un pezzetto di legno e lanciandolo nella corrente riportalo gridò il giovanotto cominciò a nuotare e afferrando con la bocca la maniera di un cane la sticella che galleggiava la riportò indietro quindi risalendo la sponda si inginocchiò con una gamba per offrirla Yvette la prese sei bello disse e con una pacca amichevole gli accarezzò i capelli una corpulenta signora indignata esclamò oh questa poi un'altra disse guarda un po' se ci si può divertire in questo modo un uomo dichiarò io non mi sarei certo fatto il bagno per una donnicciola Yvette riprese il braccio di Belvigne e gli disse in faccia non siete altro che uno sciocco amico mio non sapete che cosa vi siete perso tornarono Yvette lanciava ai passanti sguardi irritati chiaria sciocca a tutta questa gente diceva poi alzando lo sguardo verso il volto del suo compagno anche voi del resto il signor di Belvigne salutò girandosi Yvette si avvide che il principe e il cavaliere erano scomparsi Servigny cupo e grondante non imitava più il suono della tromba e camminava con aria triste accanto ai due giovanotti affaticati che non suonavano più il tamburo la ragazza si mise a ridere seccamente a quanto pare ne avete abbastanza eppure è questo che voi chiamate divertirvi non è così siete venuti per questo ve ne ho dato in ragione del vostro denaro dopodiché riprese a camminare senza dire niente tutto un tratto Belvigne si accorse che piangeva costernato le chiese che avete lei mormorò lasciatemi non vi riguarda ma lui scioccamente insisteva oh signorina su via che cosa avete siete stata contrariata Yvette ripetè spaziantendosi tacete insomma poi bruscamente non resistendo più alla tristezza disperata che le annegava il cuore cominciò a singhiozzare così violentamente che non riuscì più ad andare avanti si copriva il volto dietro le due mani e ansimava con rantoli nel petto strozzata soffocata dalla violenza della propria disperazione Belvigne restava in piedi accanto a lei completamente disorientato ripetendo non ci capisco niente ma Servigny avanzò bruscamente rincasiamo signorina è meglio che non vi vedano piangere per strada perché fate simili follie perché tutto ciò vira trista e prendendola per un gomito la trascinò via ma non appena arrivarono al cancello della villa Yvette si mise a correre attraversò il giardino salì le scale e si chiuse in camera non riapparve se non all'ora di cena pallidissima serissima tutti gli altri al contrario erano allegri Servigny aveva acquistato da un mercante del paese degli indumenti da operaio pantaloni di velluto una camicia a fiori una maglia un camiciotto e parlava alla maniera della gente del popolo Yvette aveva fretta che finissero perché sentiva il proprio coraggio vacillare dopo che tutti presero il caffè tornò in camera sua sotto la finestra udiva voci allegre il cavaliere si esibiva in storielle spinte in giochi di parole da straniero grossolani e maldestri Yvette ascoltava disperata Servigny un po' brillo imitava l'operaio pezzente chiamava la marchesa padrona ed improvviso disse a Saval ehi là padrone scoppiò una risata collettiva fu allora che Yvette si decise per cominciare prese un foglio della sua carta da lettere e scrisse bucival domenica le nove di sera muoio per non diventare una mantenuta Yvette poi come poscriptum addio cara mamma perdonami sigillò la busta indirizzata alla signora marchesa Obardì poi trascinò la poltrona vicino alla finestra attirò a portate di mano un tavolino e vi posò sopra la grande bottiglia di cloroformio accanto a un batuffolo d'ovatta un immenso rosaio coperto di fiori che partendo dalla terrazza saliva fino alla sua finestra esalava nella notte un profumo dolce e flebile che arrivava con aliti leggeri Yvette restò per qualche istante ad aspirarlo la luna al suo primo quarto galleggiava nel cielo nero un po' rosicchiata a sinistra e velata a tratti da piccole foschie Yvette pensava sto per morire e il suo cuore gonfio di singhiozzi spezzandosi per il dolore la soffocava sentiva in sé come un bisogno di chiedere grazie a qualcuno di essere salvata di essere amata la voce di servigny si alzò raccontava una storia licenziosa interrotta continuamente da scoppi di risa la marchesa stessa sembrava spassarsela ancor più degli altri ripeteva incessantemente soltanto lui è capace di dire cose simili oh 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 Yvette prese la bottiglia la stappò e versò un po' di liquido nel cotone un odore potente dolciastro strano si propagò appena avvicinò alle labbra il pezzo di ovatta la fanciulla mandò giù bruscamente quel sapore forte e irritante che la fece tossire allora chiudendo la bocca cominciò ad aspirarlo beveva a lunghi tratti quel vapore mortale chiudendo gli occhi e sforzandosi di spegnere in sé ogni pensiero per non riflettere più per non sapere più inizialmente le sembrò che il suo petto si allargasse si ingrandisse e che tutta la sua anima fino a poco prima pesante gravata di dispiaceri divenisse leggera leggera come se il peso che la opprimeva si fosse sollevato alleggerito volato via qualcosa di vivo e di piacevole la penetrava in tutte le membra fino alle estremità dei piedi e nelle mani entrava nella sua carne una sorta di abbrezza vaga di dolce febbre si accorse che il cotone era secco e si stupì di non essere ancora morta i suoi sensi le sembravano accutizzati più sottili più svegli udiva ogni minima parola pronunciata sulla terrazza il principe Kravallov raccontava come aveva ucciso in duello un generale austriaco poi molto lontano nella campagna ascoltava i rumori notturni l'abbaiare intermittente di un cane il secco grido dei rospi il fremito impercettibile delle foglie riprese la bottiglia e impregnò di nuovo il batuffolo di ovatta poi ricominciò ad aspirare per quel che istante non sentì più niente poi quel lento incantevole benessere che le aveva già invasa prima la ferrò nuovamente per due volte versò il cloroformio nel cotone avida ora di quella sensazione fisica e di quella sensazione morale di quel torpore sognante dove la sua anima si smarriva ne sembrava di non avere più ossa carne gambe braccia le avevano tolto tutto pian piano senza che lei se ne accorgesse il cloroformio aveva svuotato il suo corpo lasciandole unicamente il suo pensiero più desto più vivo più vasto più libero di quanto non l'avesse mai sentito rammentava mille cose dimenticate piccoli dettagli della propria infanzia inezze che le procuravano piacere la sua mente dotata di colpo di un'agilità sconosciuta saltava alle idee più disparate percorreva mille avventure vagabondava nel passato e si smarriva negli avvenimenti sperati dell'avvenire nel suo pensiero attivo indifferente aveva un fascino sensuale provava nel pensare così un piacere divino udiva sempre le voci ma non distingueva più le parole e per lei assumevano altri significati finabissava si perdeva in una sorta di fantasmagoria strana e variegata era su un grande battello che passava lungo un bel paese tutto ricoperto di fiori vedeva gente sulla riva e quella gente parlava fortissimo poi senza chiedersi come si ritrovava a terra e Servigny vestito da principe veniva a prenderla per condurla a un combattimento di tori le vie erano piene di passanti che discutevano e lei ascoltava quelle conversazioni che non la stupivano affatto come se avesse conosciuto le persone poiché attraverso la sua ebbrezza sognante sentiva sempre ridere e chiacchierare gli amici di sua madre sulla terrazza poi tutto divenne vago poi si svegliò deliziosamente intorpidita e faticò un po' a ricordare dunque non era ancora morta ma si sentiva così riposata in un tale benessere fisico di una tale mitezza d'animo che non si affrettava più a farla finita avrebbe voluto far durare per sempre quello stato di voluttuoso assopimento respirava lentamente e guardava la luna di fronte a lei sopra gli alberi qualcosa era mutato nel suo spirito non pensava più come prima e cloroformio debilitando il suo corpo e la sua anima aveva calmato la sua pena e addormentato la sua volontà di morire perché non doveva vivere perché non poteva essere amata perché non poteva avere una vita felice tutto le sembrava possibile ora e facile e certo tutto era dolce tutto era buono tutto era incantevole nella vita e siccome voleva continuare a fantasticare versò ancora quell'acqua di sogno sul cotone e riprese ad aspirare allontanando a tratti il veleno dalle narici per non assorbirne troppo per non morire guardava la luna e ci vedeva dentro un volto un volto di donna ricominciava a battere la campagna nell'immaginifica ubriachezza dell'oppio quella figura dondolava in mezzo al cielo e poi cantava cantava con una voce ben nota l'alleluia d'amore era la marchesa che era appena rientrata per mettersi al piano Yvette ora aveva delle ali volava di notte in una bella notte chiara sopra boschi e fiumi volava suavemente aprendo le ali battendo le ali portata dal vento come fosse una carezza scivolava nell'aria che le baciava la pelle e filava così rapida così rapida da non avere il tempo di vedere sotto di lei e si ritrovava seduta in riva a uno stagno con una lenza in mano a pescare qualcosa tirava il filo che lei toglieva dall'acqua portando con sé una magnifica collana di perle una cosa che desiderava tanto da qualche tempo non si stupiva affatto di quella trovata e guardava Servigny arrivato al suo fianco senza che lei sapesse come che pure pescava ed estraeva dal fiume un cavallo di legno poi ebbe di nuovo la sensazione di un prossimo risveglio e sentì che da basso la chiamavano sua madre aveva detto spegni la candela poi la voce di Servigny si elevò chiara e comica spegnete la candela signorina Yvette e tutti ripresero in coro signorina Yvette spegnete la candela versò di nuovo del cloroformio nel cotone ma poiché non voleva morire lo tenne abbastanza lontano dal viso per respirare l'aria fresca pur continuando a diffondere nella stanza l'odore assuissiante del narcotico da che aveva capito che stavano per salire assumendo una postura di completo abbandono una postura di morte aspettò la marchesa diceva sono un po' preoccupata quella piccola folle si è addormentata lasciando la luce accesa sulla tavola manderò Clemens a spegnerla e a chiudere la finestra del balcone che è rimasta spalancata subito dopo la cameriera bussò alla porta chiamando signorina signorina dopo un silenzio ripete signorina la signora marchesa vi prega di spegnere la candela e di chiudere la finestra Clemens attese ancora un po' poi bussò più forte gridando signorina signorina visto che Ivette non rispondeva la domestica tornò dalla marchesa dicendole la signorina deve essersi addormentata e che a vistello è tirato e non riesco a svegliarla la signora Obardì mormorò eppure non possiamo lasciarla così tutti allora dietro consiglio di Servigny si riunirono sotto la finestra della fanciulla e urlarono in coro hip hip urrà signorina Ivette il loro clamore si innalzò nella notte calma si involò sotto la luna nell'aria limpida si perse sul paese che dormiva la sentirono allontanarsi come fa il rumore di un treno che fugge giacché Ivette non rispondeva la marchesa disse speriamo non le sia accaduto nulla comincio ad avere un po' di paura allora Servigny raccogliendo le rose rosse del grande rosaio cresciuto lungo il muro e i boccioli non ancora schiusi cominciò a lanciarli nella camera attraverso la finestra al primo colpo che la colpì Ivette trassalì e per poco non gridò altri ne cadevano sulla sua veste altri fra i capelli altri ancora oltrepassandola finivano sul letto e lo coprivano di una pioggia di fiori la marchesa gridò ancora una volta con voce strozzata su Ivette rispondici allora Servigny dichiarò tutto questo non è affatto normale ora mi arrampico sul balcone ma il cavaliere si indignò permettete permettete si tratta di un grosso favore lo pretendo è un ottimo espediente un ottimo momento per ottenere un appuntamento tutti gli altri che credevano a uno scherzo della ragazza esclamarono protestiamo è una montatura non salirà non salirà ma la marchesa agitata ripeteva bisogna pure che qualcuno vada a vedere il principe dichiarò con gesto drammatico lei predilige il duca noi siamo tagliati fuori giochiamoci a testa e croce chi dovrà salire chiese il cavaliere ed estrasse dalla tasca una moneta d'oro da cento franchi cominciò con il principe croce disse venne testa il principe gettò la moneta d'oro a sua volta dicendo al Saval dite pure signore Saval disse testa ed era croce il principe pose successivamente la domanda a tutti gli altri persero tutti Servigny l'unico rimasto dichiarò con la sua solitaria insolente perbacco lui bara il russo si mise la mano sul cuore e tese la moneta d'oro al rivale dicendo giocate voi stesso caro duca Servigny la prese e la lanciò gridando testa fu croce fece il saluto e indicando con la mano il pilastro del balcone salite pure principe ma il principe si guardava intorno con aria inquieta che cose cercate domandò il cavaliere ma io vorrei una scala scoppiò una risata generale e Saval avanzando vi aiuteremo noi lo sollevò con le sue braccia Hercule raccomandando aggrappatevi al balcone il principe si aggrappò subito e dopo che Savallo ebbe lasciato restò sospeso agitando i piedi nel vuoto allora Servigny afferrando quelle gambe incerte che cercavano un punto d'appoggio tirò giù con tutte le sue forze le mani cedettero e il principe cadde come un sacco di patate sul ventre del signor di Belvigne che veniva avanti per sostenerlo a chi tocca chiese Servigny ma nessuno si presentò sovia Belvigne un po' di audacia grazie mio caro ci tengo alle mie ossa su cavaliere voi dovreste essere abituato alle scalate vi cedo il posto caro duca il fatto è che non ci tengo poi più di tanto e Servigny con occhi scrutatori girava attorno al pilastro poi con un salto aggrappandosi al balcone si sollevò con i polsi richiamò tutto il corpo come un ginnasta e valicò la balaustra tutti gli spettatori col naso per aria applaudivano ma riapparve subito gridando venite subito venite subito Ivette priva di conoscenza la marchesa emise un grido acuto e si precipitò sulle scale la fanciulla con gli occhi chiusi sembrava morta sua madre entrò sconvolta e si gettò su di lei ditemi che cos'ha che cos'ha Servigny raccolse la bottiglia di cloroformio caduta sul pavimento si è asfissiata disse incollò l'orecchio sul cuore quindi aggiunse ma non è ancora morta la rianimeremo avete dell'ammonioca la cameriera disorientata ripeteva che cosa che cosa signore acqua sedativa si signore portatela subito e lasciate la porta aperta per creare una corrente d'aria la marchesa in ginocchio si inghiozzava Yvette Yvette figlia mia piccina mia figlia mia ascoltami rispondi Yvette figlia mia oh mio dio mio dio che cos'ha e gli uomini sgomenti si agitavano senza combinare nulla portavano acqua tovaglioli bicchieri aceto qualcuno disse bisogna spogliarla e la marchesa che aveva perso la testa tentò di svestire sua figlia ma non sapeva più quel che faceva le sue mani tremavano si ingarbugliavano si confondevano e lei gemeva io io non ci riesco non ci riesco la cameriera era rientrata portando un flacone che serfigni stappò versandone una metà in un fazzoletto poi lo mise sotto il naso di Yvette che ebbe un soffocamento bene respira disse non è niente e le lavò le tempie le guance il collo con il liquido dall'aspero odore poi fece segno alla domestica di slacciare la ragazza e quando quest'ultima ebbe indosso soltanto una gonna e la camicia la sollevò con le braccia e la portò fino al letto tremando agitato dal profumo di quel corpo quasi nudo dal contatto con quella carne dall'umidità dei seni appena nascosti che lui faceva flettere sotto la sua bocca dopo che l'ebbe distesa si rialzò assai pallido in volto ora tornerà in sé disse non è niente in effetti in effetti l'aveva sentita respirare in modo continuo e regolare ma vedendo tutti quegli uomini con gli occhi fissi sui vet sdraiata sul letto un'irritazione gelosa lo fece trassalire e avanzando verso di loro signori siamo in troppi in questa stanza vogliate lasciare soli il signor Saval e me con la marchesa parlava con un tono secco e pieno di autorità gli altri se ne andarono subito la signora Bardi aveva preso il suo amante tra le braccia e con la testa alzata verso di lui gli gridava salvatela oh salvatela ma Servigny voltandosi vide una lettera sulla tavola la ferrò con un movimento rapido e lesse l'indirizzo capì e pensò forse è meglio che la marchesa non ne sia a conoscenza e la celando la busta percorse con uno sguardo le due righe che conteneva muoio per non diventare una mantenuta Ivette addio cara mamma perdonami accidenti pensò la cosa richiede una certa cautela e nascose la lettera nella tasca poi si avvicinò al letto e gli venne subito in mente che la ragazza potesse aver ripreso conoscenza anche se non osava mostrarlo per vergogna per umiliazione per il timore delle domande ora la marchesa era caduta in ginocchio e piangeva con la testa ai piedi del letto ad un tratto esclamò un medico ci vuole un medico servigny che aveva appena scambiato due parole sottovoce con Saval le disse no non c'è bisogno su andate via un minuto soltanto un minuto vi prometto che quando tornerete vostra figlia vi abbraccerà e il barone sollevando la signora Bardi con il braccio la portò via con sé allora servigny sedendosi al capezzale prese la mano di Ivette e disse signorina ascoltatemi non rispose si sentiva così bene così dolcemente così caldamente distesa che non avrebbe voluto muoversi mai più non parlare mai più e vivere così per sempre un benessere infinito l'aveva invasa un benessere come non ne aveva mai provato di simili aria tiepida della notte entrando a soffi leggeri e vellutati le sfiorava di tanto in tanto il viso in modo delizioso impercettibile era una carezza qualcosa come un bacio del vento come l'alito lento e rinfrescante di un ventaglio fatto di tutte le foglie dei boschi di tutte le ombre della notte della nebbia dei fiumi e anche di tutti i fiori perché le rose gettate dalla terrazza nella sua camera e sul suo letto le rose arrampicate fino al balcone mescolavano il loro languido profumo al sano sapore della brezza notturna Yvette beveva quell'aria così buona con gli occhi chiusi e con il cuore ristorato nell'ebbrezza ancora persistente dell'oppio e non aveva più alcun desiderio di morire ma una voglia forte e imperiosa di vivere di essere felice non importa come di essere amata sì amata Servigny ripetè signorina Yvette ascoltatemi e lei si decise ad aprire gli occhi il giovane vedendola rianimarsi proseguì su andiamo che cosa sono mai queste follie lei mormorò caro pallina ero così addolorata lui le stringeva la mano paternamente non ci guadagnavate granché ma sì su via promettetemi che non lo rifarete lei non rispose ma fece un piccolo movimento con la testa accentuato da un piccolo sorriso sensibile più che visibile Servigny estrasse dalla tasca la lettera trovata sul tavolo bisogna mostrarla a vostra madre lei fece no con un cenno del capo lui non sapeva più cosa dire poiché la situazione gli sembrava senza scappatoie mormorò piccina cara bisogna rassegnarsi alle cose più penose comprendo bene il vostro dolore e vi prometto lei balbettò siete buono tacquero lui la guardava Yvette aveva nello sguardo qualcosa di commosso di svenevole e improvvisamente sollevò le due braccia come se avesse voluto attirarlo a sé lui si chinò sulla fanciulla sentendo di essere chiamato e le loro labbra si unirono rimasero così a lungo a occhi chiusi ma Servigny comprendendo che stava per perdere la testa si rialzò Rivette ora gli sorrideva con un vero sorriso di tenerezza e con le due mani aggrappate alla spalla lo tratteneva vado a chiamare vostra madre disse lei mormorò ancora un secondo sto così bene poi dopo un silenzio disse piano così piano che l'altro odia malapena mi amerete davvero lui ci inginocchiò accanto al letto e baciando i polsi che lei gli aveva lasciato vi adoro ma qualcuno camminava vicino alla porta Servigny si risollevò con un balzo e gridò con la sua voce solita che sembrava sempre un po' ironica potete entrare ormai è fatta la marchesa si precipitò su sua figlia a braccia aperte e la strinse freneticamente coprendole il viso di lacrime mentre Servigny con l'anima raggiante la carne commossa avanzava sul balcone per respirare all'aria aperta il fresco della notte canticchiando la donna muta ognora un folle è chi l'ignora a Grazie a tutti.